ma buonasera a tutti amici video spettatori e in particolar modo in una live che farà molto parlare di sé buonasera o buon pomeriggio maestro eccoci buonasera salve ragazzi salve a tutti sì ho una voglia di iniziare questa diretta che voi non avete idea voi non avete idea ce l'hanno michele di più forse di voi perché sa delle cosine ma vi metterò i brividi con questa live perché me li voglio mettere da solo ok partiamo da questo presupposto una situazione nella quale alcuni tipi di videogiocatori passano spesso la partita successiva a una sintetizzabile esperienza come sconfitta ma non è anche se anche se non è una sconfitta il giocatore la sente come tale già 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 buon pomeriggio a tutti e innanzitutto mi scuso con i ragazzi che ci seguono il video si è finalmente sbloccato in realtà michele mentre ne stavamo parlando offline e quindi sta credo per essere pubblicato dopo 50 minuti di elaborazione quindi mentre siamo in live qui su dark souls uscirà anche il video analisi di diamante lucente per la splendente a brevissimo però insomma per ora mi concentrerai su dark souls chi è qui si guardi questa live tanto il video non scappa ecco questo è il mio consiglio intanto quindi prima di subentrare nel discorso di introduzione di francesco sidonia e f tutti e tre insieme ragazzi come sempre grazie a tutti grazie meravigliosi io ho ricevuto persino nel pre show le sub in regalo anche io potevo ringraziarvi ecco appunto cioè ecco è qualcosa di meraviglioso siete dinamo e non solo benvenuti e grazie a tutti ragazzi grazie mille ragazzi grazie dei regali siete dolcissimi state state sostenendo non solo questi canali ma questo progetto pazzurdo e sgravato che sinceramente io e michele cresciamo come un bambino al quale vogliamo tanto sì è vero tanto 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 bene allora allora questa live avrà due introduzioni una in title screen e una in game ok ti sta bene io sono pronto benissimo sono qui per te cominciamo quindi con l'introduzione standard oserei dire canonica siamo stati nel mondo dipinto di ariandel o ariandel che dir si voglia e al suo interno abbiamo potuto constatare che probabilmente ariamis è ariandel perché troppi elementi sembrerebbero combaciare non tanto con una coincidenza di stile e strutture ma con una vera e propria evoluzione e deterioramento di ciò che abbiamo visto in dark souls 1 non solo il ponte e il promontorio con la cattedrale ma soprattutto l'arena di priscilla che è buttata in mezzo al nulla al ghiaccio allo schifo e infatti l'hai riconosciuta e questo non mi fa più pensare che il pittore stia replicando se stesso questo mi fa pensare che ariamis sia evoluta in qualche modo in ariandel che priscilla l'abbia abbandonato che ci sia morta dentro e forse che ci abbia partorito addirittura il nostro amico pontefice salivan giusto che adesso è pontefice della via bianca e della valle boreale e ha una missione ovviamente io non posso sapere quale sia questa missione ma se io fossi partorito in un mondo che non esiste e soprattutto nel quale si rifugiano i dannati io sarei molto arrabbiato con il mondo esterno poi magari non è il caso di sullivan ok però mettiti nei panni di qualcuno che cresce in un mondo misero dove scappano tutti coloro che sono banditi o schifati nell'originale sì tu non vorresti andare nel mondo che ha esiliato i tuoi simili i tuoi genitori e fargli un culo così io probabilmente sì e quindi capito tu stai vedendola come vendetta sì 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 allo stesso modo però ho un presentimento ok ti ascolto ti ascolto ho una paura e spero che non sia reale ma gli ultimi minuti di live mi hanno fatto realizzare il timore che non sia casuale che il dipinto sia stato inserito nella cattedrale delle profondità e ho fatto un collegamento folle che spero sia veramente falso perché se così non fosse sarebbe veramente terribile ciò che accadeva nella cattedrale delle profondità noi sappiamo che nella cattedrale risiedeva oldrich che mangiava le persone sì e in teoria se il dipinto è lì e si trova il modo di estrarre chi vi è dentro in teoria oldrich poteva tranquillamente mangiare le persone del dipinto perché si trova io intrigatissimo al punto che non vorrei interromperti sì ti devo far notare una cosa importantissima per supportare o fermare il tuo percorso mentale tu non sai dove possa essere o se ancora sia da qualche parte il dipinto questo individuo l'aveva questo individuo in ginocchio prostrato sì sicuramente alla cappella della purificazione che plausibilmente è vicina o parallela alla cattedrale delle profondità ma lui lo aveva con sé poteva averlo preso da qualunque luogo è vero hai ragione hai ragione potrebbe averlo preso da qualunque luogo ma il fatto che fosse lì mi fa anche pensare che possa averlo trafugato dalla cattedrale un piccolo pezzo magari portato qui magari portato quindi non possiamo escludere che addirittura questo luogo stesse doppiamente profanando il dipinto in primis perché il dipinto stesso è il cesso del di lothric e di lord run prima e in secondo luogo perché potrebbero avere addirittura estratto coloro che risiedevano nel dipinto per dargli da mandare da mangiare a oldrich però ovviamente questo rimane in forze certamente ciò che è certo è che sullivan è di una potenza inaudita perché in grado di donare i suoi occhi in maniera metaforica o meno a dei cavalieri che divengono bestie e che hanno una missione e questa missione può essere duplice non posso trovare ora una risposta certa lo hai detto tu l'altra volta volt potrebbe non volere che i non morti provino a riportare i lord of cinder a casa e quindi non vuole che si esca dal portone per questo motivo oppure non vuole che si esca in generale dalle alte mura e quindi la missione di sullivan diventa quella di tenerci dentro il le alte mura di lothric per un motivo che ovviamente mi sfugge però non posso fare a meno di notare che c'è somiglianza tra la lignificazione delle donne che piangono e quella dei popolani delle alte mura quanto meno a livello estetico perché poi a livello pratico loro erano morti quelli delle alte mura mentre molto vive le donne albero del dipinto di ariandel e poi un ultimo dettaglio di questo mosaico pazzo è ancora impossibile da leggere la donna che va a fuoco ok la donna che va a fuoco può avere due significati per chi non l'avesse visto l'episodio precedente c'è una stanza a un certo punto nella quale c'è questa donna fride giusto che sembrerebbe essere dipinta in tantissimi quadri e ripetutamente e sembra che lo abbia fatto qualcuno che risiedeva al piano di sopra di quella cappella di quella cattedrale e che infatti ha ancora una tela in fieri che non è mai stata completata o i dipinti vogliono raffigurare la donna che va a fuoco proprio in senso letterale la donna che va a fuoco oppure è più metaforico ed è il dipinto che brucia cioè è il dipinto di lei che brucia disegnato in un dipinto quindi si vuole mostrare a chi guarda quell'opera d'arte che l'arte deve bruciare o che quel dipinto deve bruciare e questa seconda lettura per quanto sia ovviamente più lontana da quello che ho percepito dentro il mondo di ariandel dall'altra parte è molto vicina allo stato in cui si trova il dipinto adesso cioè il dipinto è solamente un frammento in mano a quell'uomo quindi magari qualcuno lo ha già bruciato non posso non pensare che salivan sia impazzito e sia uscito dal dipinto per bruciarlo lo ha già bruciato quindi tu giustamente presumi e questa è una cosa molto interessante è tutto nato dalla tua idea di immobilità e separazione del dipinto da qualunque legge possa avere il mondo esterno che è una cosa molto logica e quindi tu dici se il dipinto ha avuto bisogno di lavoro se il dipinto ha avuto mani sopra per poter essere ricostruito da un evento qualcosa è successo e potrebbe essere un fuoco che lo ha bruciato sì certo sì ma non solo e cioè credo che lo abbia bruciato chi stava disegnando quei dipinti cioè se ho ragione e quello è un un disegno che esprime la volontà di dare fuoco al dipinto allora chi ha disegnato quei quadri poi è uscito fuori e magari ha dato veramente fuoco al dipinto originale magari se ho ragione salivan è impazzito e ha voluto bruciare il suo passato portandosi invece il freddo con sé nella valle boreale quindi il fuoco ha al suo passato e il freddo al suo presente salivan forse sognava nella sua testa di dare pace a tutti i suoi simili dandogli fuoco perché credo che se il dipinto bruci il mondo smette di esistere e il mondo esiste ancora perché un frammento è ancora in piedi effetto tu sei riuscito ad entrare da un frammento è capito è però se non esistono frammenti cosa succede il mondo non è più raggiungibile o finisce di esistere perché per me finisce di esistere sono d'accordo cioè per me se il mondo dipinto di ariamis o di ariandel non può non possono corrispondere ecco questi due mondi a un dipinto e si smettono di esistere sono d'accordo e ragazzi perdonate mi rispondo alla mia chat il video credo sia in elaborazione chiara mi fa spallucce quant'è è solo in 360p al momento non è mai stato così lungo il momento di elaborazione ci posso possiamo fare veramente poco chiedo ai moderatori di mettere a rotazione un messaggio perché altrimenti io divento scemo prima della fine della live grazie mille scusatemi non dipende da me non dipende da nessuno se youtube ci mette così tanto c'è poco da fare dicevo comunque quindi potrebbe esistere effettivamente il desiderio di bruciare il mondo dipinto di ariandel non so chi lo ha fatto però potrebbe essere colui che disegnava continuamente fride bruciare il che significa in altre parole che se avessi ragione ci sarebbero due forze in qualche modo presenti dentro il mondo dipinto di ariandel chi vuole preservare il mondo dipinto i valori che rappresenta e forse la storia che racchiude e chi invece vuole dimenticarla chiunque abbia disegnato quei dipinti e poi abbia tentato con quasi secondo me successo totale di bruciarlo credo davvero che salivan sia la chiave di tutto questo salivare un personaggio interessante salivan è un personaggio a inventare un incantesimo all'interno del dipinto in cui è nato per poi uscirne non è non è semplice non è semplice perché si potrebbero dare davvero mille letture della bruciatura del dipinto se smette se non smette di esistere potrebbe essere potrebbe essere un bandire chiunque dall'ingresso di ariandel quindi una protezione paradossalmente però dall'altra parte l'immagine molto violenta una donna che prende fuoco dentro il dipinto non sembra una cosa fatta per il bene di quel mondo sembra una damnazio però chiaramente una sensazione di pancia magari invece salivan voleva tutelare il mondo dipinto di ariandel distruggendo nell'unico accesso ma così facendo in teoria si dovrebbe distruggere anche l'unica via d'uscita eppur qui termino la mia disquisizione con l'ultimo tassello di un puzzle davvero molto confuso i falò funzionano io posso uscire una volta entrato nel dipinto attraverso il dipinto posso entrare uscire dal dipinto in teoria attraverso il falò e quindi in realtà anche se il mondo dipinto crea il mondo stesso cioè meglio il dipinto crea il mondo dipinto perdonate il gioco di parole poi la fiamma lo raggiunge si propaga anche attraverso il mondo fittizio qualcosa che prima in ariamis non funzionava allo stesso modo in quanto sì c'era la capacità di avere una guardiana del fuoco per un falò ma non è riconnesso al mondo esterno e no no ragazzi forse avete rispondo alla chat forse avete capito male quello che stavo dicendo assolutamente per me il dipinto da questa ricostruzione potrebbe essere già bruciato l'unica parte che resiste quella in mano al predicatore ok quindi assolutamente penso che possa essere già bruciato forse non per proteggerlo però perché appunto il falò funziona si può già entrare uscire indipendentemente anche se si potrebbe arrivare a pensare che solo coloro che sono già dentro possono usare il falò e quindi in realtà bruciarlo protegge da nuovi invasori chiunque sia già dentro il mondo potrebbe entrare uscire attraverso i falò ma chiunque non sia mai entrato all'interno del mondo dipinto di ariandel non potrebbe farlo senza aver toccato in primis un pezzo di un dipinto che però ovviamente non esiste più è complesso è un mosaico strano distorto confuso abbiamo ancora troppe poche informazioni c'è tantissimo esatto il che ci porta alla seconda parte di questa introduzione molto 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 ma dobbiamo premere il tasto start per farlo oh allora aspetta che ora ti mostro ai ragazzi ah ok mi mostri proprio ok io ti ho nel senso metto il piccolo prima era anche io ti infilo molto bene molto bene andiamo ti ascolto anzi ti ascoltiamo è un discorso non dico lungo ma importante o l'abbiamo detto insieme siamo proprio devo necessariamente far coincidere in questo discorso francesco videogiocatore sidonia content creator f lettore di storie molto bene cvd nell'ultima diretta ho tentato di completare il mondo dipinto di ariandel nonostante non fosse il momento assolutamente perché è un contenuto endgame tu me lo avevi anticipato me lo avevi detto ci abbiamo provato con tutti noi stessi ma abbiamo fallito c'è una cosa che voglio dire però anche una discussione che ho visto più volte fare in chat che non ha mai toccato un certo argomento ok c'è c'è il messaggio ti ho non aiutato proprio per farti vivere l'esperienza e decidere la maniera autonoma hai avuto questo viaggio che più souls di così raramente si vede hai vissuto una delle prime volte un'esperienza di chi la prima volta gioca a un dark souls privo di copo privo di qualunque tipo di aiuto in cui o mio dio è vero effettivamente anche un gdr qui qui è tosta non dovrei trovarmi in questo luogo no ed è una cosa stupenda ma di game design ragazzi spero che abbiate notato che lui non ha trovato pezzi e lastere di titanite dietro gli angoli no è comunque accessibile alla cappella della purificazione quindi c'è stato pensiero dietro di non rompere la progressione di gioco certo è vero che se riesci ad andare avanti beh le cose cambiano prosegui pure e dunque abbiamo preso davvero tante botte che in realtà avremmo potuto evitare da un certo punto di vista ma spezzando una lancia a favore proprio dell'esperienza che abbiamo vissuto venerdì sera barra notte il fatto è questo avrei fatto la stessa cosa da solo anche leggendo il messaggio che questo ci vengo a sottolinearlo non avrei mai letto da solo ok ma col cazzo avrei pensato avrei pensato vabbè un messaggio prova lingua ma buco ma vaffanculo e vado avanti è quello che ho detto ai ragazzi off screen ok non l'avrei mai letto cioè sarebbe andata così siccome giustamente è importante sempre sottolineare che è la mia blind run nel senso che deve essere vissuta più o meno similmente a come la vivrei davvero da solo e dico più o meno perché è impossibile siamo qui in live ho effettivamente fatto quello che avrei fatto da solo prendere mazzate e poi insomma a un certo punto capire che magari non è il caso anzi quello che avrei fatto davvero essendo da solo è andare su google e scrivere dio madonna come si fa questo nemico e leggere aspetta è contenuto in game ok a posto ma allora mi sa che non era un problema mio è un problema del di quando sto facendo questo diciamo questa esperienza questo questa sfida quando la sto schedulando nel mio nel mio percorso ciò nonostante se ci pensate quello che è successo è che abbiamo provato una sfida simile a quella di dark souls 1 con le catacombe dico simile perché si uguale non può essere esatto uguale non può essere in quanto in dark souls 1 abbiamo fatto le catacombe che erano un elemento del gioco della campagna principale non early qui invece stiamo facendo qualcosa di ancora più difficile cioè un contenuto dlc mentre il personaggio ha appena fatto il primo boss importante ovvero i guardiani dell'abisso purtuttavia purtuttavia noi content creator e noi videogiocatori dai viviamo di un bene prezioso del quale abbiamo parlato insieme anche molte volte ovvero l'autocritica è l'unica cosa che ci può far andare avanti è l'unica cosa che ci può far sopravvivere al domani guardandoci indietro e pensando ieri ero peggio di oggi e oggi sono meglio di ieri e questa è una gran figata e quindi ho cominciato a pensare nel mio piccolo nella mia solitudine cosa c'era di diverso tra le catacombe e il mondo dipinto di ariandel la differenza è che nelle catacombe ero disposto a tutto nelle catacombe di dark souls 1 ho violato firenzo l'ho costretto a camminare nudo dentro un posto buio con una torcia droppata per culo su per il culo mentre teneva un grosso scudo e gli tremavano le gambe e nel mentre lui veniva braccato da bestie gigantesche grandi quintuplo di lui f e cidonia invece nell'ultimo episodio sono coincisi cidonia non vuole smuoversi dal suo gameplay ok francesco content creator non vuole offrire un'esperienza diversa rispetto a quella che si era prospettato e f non vuole essere l'assassino non vuole essere diverso dall'assassino che è che rappresenta e che ha sempre rappresentato nella nostra run di dark souls 3 f a questo pugnale questa spada le discolame la magia per fare silenzio non è nient'altro esattamente come cassandro è sempre stato un guerriero tortisiano e non ha mai e poi mai cambiato la sua rotta ciò nonostante mi permetto di dirvi che benché io non abbia la sicurezza di potervi raccontare definitivamente una storia di vittoria o di sconfitta manca un ultimo capitolo alla nostra storia f durante la sigla ha scoperto di essere parte della storia che sta leggendo e quindi anche le catacombe fanno parte della storia che sta leggendo e quindi cidonia francesco e f devono superare una paura quest'oggi la paura di ripetersi e di ripetere la storia senza riuscire a rendere allo stesso modo la paura di replicare quello che ho già fatto e quello che è già stato fatto riuscendolo a fare un po meno voglio andare dal corvo un'ultima volta ma voglio farlo come si racconta nell'anima oscura pertanto toglierò le armi a cui solitamente f è abituato e gli piazzo un bello scudo in mano controllo che il roll funzioni e funziona una volta sola ragazzi una volta sola voglio rientrare lì dentro volendo essere firenzo in quanto francesco e volendo essere firenzo in quanto f è un po quello che a volte è accaduto ai ragazzi dinanzi a seethil senza scaglie da maghi che non potevano danneggiarlo tuttavia ti dico due cose la prima è quello a cui ti ho accennato in privato ossia che ho visto ciò che è accaduto nella tua live quando tu hai fatto ma che voglio che gli ho fatto un perri ed eri di spalle cioè e ieri dietro praticamente ossia che si mia zaki aveva sekiro nel cuore e i corvidi possono essere deflessi ok quindi se tu attacchi quando attaccano loro e la tua lama colpisce la loro lama gli fai un perri però non è proprio una cosa da fare con leggerezza la seconda non è un caso che l'hanno fatto così aggressivo e veloce proprio per compensare il fatto che può interromperlo la seconda è quello con cui ti ho salutato la scorsa volta prima di tornare in questo mondo dipinto siediti un secondo al falò ok fidati fidati di me perché questa è una cosa che fa perfettamente parte di quello che sarebbe stata la tua ranna nel privato che invece non c'è stata proprio il nome del fatto che eravamo insieme viaggia ok viene trasportati al falò precedente ai guardiani dell'avvis ok quindi questo lupo di farro no 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 su questo ok esterno del forte ha tenato uno prima a ok quindi era giusto forse un po di live e forse sì sì probabilmente sì scusami ragazzi la musica è voluta e terminerà alla fine del try allora però credetemi non ho perdonami devo dire questa cosa a tutti ma certo certo è davvero un solo try non sto scherzando cioè il punto è un try f vuole dare una chance una chance all'anima oscura se riuscirà a battere il corvo al primo tentativo nel modo in cui quel guerriero leggendario in teoria di fantasia ha battuto gli scheletri allora forse c'è un fondo di verità altrimenti né sa idonia né francesco né f daranno una speranza a quel viaggio che evidentemente è una fantasia che per f non esiste e che io ho dimenticato questo è il punto magnifico fammi pure starò la piccola lag ci ha fregato sese ok vado per ricordi volevamo assolutamente volevo finalmente e finalmente all'ultimo darti la soddisfazione di scoprire cosa ci fosse dentro quell'arena quindi alle spalle di questo luogo tu non sei mai andato giusto fallo è veramente molto breve qui ed è uno stupendo no aspetta altrettanto sì 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 non ci sei mai stato non ci sei mai stato fidati di me hai ragione no che non ci sono mai stato ehi 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 o frammento di tita buono ok ciao e andiamo anche qua alla grande andiamo alla grande alla grandissima così poi ricordati di esplorare quanto più possibile il muse di quest'arma perché il suo l2 con il muse di farron è fantastico però r2 attacco dopo il roll eccola lì lei a lei è il mio primo muro e lei oltre a essere stata il tuo primo muro ti permetterà di potenziarti l'arma di un più uno meritatamente ricordati che se la colpisce abbastanza violentamente e di seguito potrai farle un riposte ma ovviamente pericolosa va bene ed è più forte di quella del prologo chiaramente e lo immaginavo bel roll ci piace bravo bravissimo sei aggressivo al punto giusto top sì vai riposte eh niente ah non importa non importa perché hai fatto l'attacco in corsa la stai comunque sfondando attacco caricato ci piace dai dai è praticamente un perfect no 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 oh mamma mia non mi aspettavo ok no non è morta ok ora si vai a potenziare quella bimba andiamo altare no no non devo esplorare adesso questo posto ragazzi non è adesso non è è quello che stavamo cercando di fare ok rinforza arma molto bene più due non male sarà un bel saranno delle belle botte in più bene andiamo facciamolo 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 credo che in realtà questa sia la via più giusta per f lentamente se dovesse funzionare ha senso che questo personaggio creda sempre di più nelle storie magari questo sarà il giorno in cui lo farà magari no però se le storie fossero vere avrebbe assolutamente senso non usarle più come intrattenimento ma come almanacco di guida no proviamoci ho un'idea ho un'idea che ancora non vi ho non vi ho esplicitato ma se devo ragionare come firenzo devo farlo fino in fondo e non è solo lo scudo l'idea che ho sono curioso magari non funzionerà perché non ho idea però intanto vediamo no 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 non c'entrano nulla le piromanzie non le ho devo ragionare come firenzo non devo ragionare come f devo devo essere firenzo in questo momento perché f vuole provare a ragionare come firenzo quindi aspettate non sono impazzito c'è un motivo se sto facendo questo ok no no anche tu ok ce ne saranno altri beh immagino che i più avranno già capito magari non funziona magari sì ok vai è il momento It is time Uh, mamma mia se sento la tensione È un solo try ragazzi Simbolico Non ci dovrebbe essere più niente, è vero? Cosa si nasconde dietro quel corvide? Ah, questo non lo sappiamo Questo lo scopriremo, ma non mi interessa Esatto, non è il punto adesso Non è il punto, hai capito? Fanculo Firenze proverebbe il tutto per tutto Seguimi, bastardo Dimmi che vieni qua Ti prego dimmi che vieni qua Sì Sanguinamento, occhio Lo so Ricordati l'estus Esatto Ah, cazzo Ok Ok Hai controllo Ok Ecco esatto spacing grande si è morto Jim quanto fare in quel libro ci sono ed è per questo che F ha questa espressione guardalo esatto ad F tremano le mani perché perché quella storia allora forse un fondo di verità ce l'ha esatto quello scudo quelle movenze l'adattamento la congenialità dell'arena si tutto la leggenda era vera hanno perso tutti la scommessa a godo ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia e sai che forse aspetta oh mio esatto bravo esatto sai che forse no ragazzi ma che cazzo state dicendo che c'è la lore finale e trova la gemma che voleva per le sue armi sì 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 esatto esatto io volevo caricare il momento esatto mamma mia che spettacolo che spettacolo è raro mi dicono è molto raro non ci posso credere ma cosa cazzo è appena successo è rarissimo ma cosa cazzo è appena successo oh mio dio ti va se provo a proseguire ma a questo punto cioè per me io sono soddisfatto se muoio non importa posso andarmene io volevo dimostrare a me stesso che con un atteggiamento diverso avrei potuto sconfiggere quel mob al primo try eh guarda hai un po' avuto anche l'eco di ciò che raccontavo ai ragazzi dopo alla fine della scorsa live quindi sei stato perfetto e io ho fatto un ragionamento proprio sul fatto loro se lo ricorderanno tantissimo in cui dicevo ragazzi ricordatevi tra l'altro cosa da notare che qui Francesco sta giocando talmente tanto il suo personaggio è certo che non gioca di ruolo a livello di gameplay cioè non fa il GDS non cambia setup in base alla sfida se lo avesse fatto chissà ecco il chissà eh però capisci che in realtà F è un po' Kirby ma certo cosa no certo cosa che vuol dire come che vuol dire Kirby assorbe i poteri degli altri e ho capito e quindi in questo momento si è magnato una pagina dell'anima oscura sì 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 certo io certo certo Sidonia certo è Kirby certo certo a seconda il tuo amico stupido c'è un corvide ancora più pericoloso ora me lo potete dire è unico quella merda no non te lo possono dire ok ok devo morirci prima no in realtà non vedo l'ora che tu sappia la verità allora non è unico no la verità non è tanto se è unico o meno è un'altra cosa la verità è un'altra è un'altra è un'altra ma ancora vivo ok escrementi con Mitch e grande anima di viandante ignota oh c'è un altro corvide lì abbiamo la possibilità di salire in realtà maestro siamo eh sì ma infatti ora io sono nel dipinto con te ci sono due vie possiamo salire di qua o credo anche di qua o no no forse no 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 in realtà non posso posso salire solamente dalla scala di qua e fare il giro mamma mia sei di nuovo nel dipinto non era finita non era finita non era finita sono d'accordo finirà oggi nel bene e nel male ma con un atteggiamento diverso Firenziano un abbracce quella che ho usato ok quindi ci sono proprio delle case qui ma non c'erano anche a Riamis oddio non erano messe così bene in realtà ad Riamis c'era la struttura centrale ma case erano quasi impercettibili non c'era nulla se non neve e boschi probabilmente questo è il lavoro di bravo oh mio dio che sollievo oh ero convinto che sarebbe finita in G ok ok e chi è la prima? Fride? sono cenere si ah no forse il cavaliere l'altra cenere però parlava di una donna il il predicatore no? brucia questo mondo la mia signora deve vedere la fiamma aspetta aspetta fermi brucia oh mio dio aspettate ancora ma che vuol dire? la strega oh mio dio che non è la strega My Lady è un'altra persona perché lui parla di una strega quindi in realtà forse la stagnazione arriva anche qui è proprio questo il colpo di scena molto sottile da intendere che tu adesso hai preso la il ruoto il marcio è il fatto che la stagnazione ha raggiunto il dipinto ha raggiunto il dipinto e loro vogliono ammazzarsi oh please cazzo che premio per il mio coraggio di tornare qui questo dialogo hai visto? esatto era dietro l'angolo che premio allora fermi ok ho bisogno di fermarmi un'altra volta qui come siamo messi? è andato? ah stai uploadando di nuovo eh ragazzi qui il video sta eh immaginavo eh ce lo dicevi Michele ragazzi io vi chiedo scusa non so che dirvi eh si era proprio piantato a 360p mi dicono eh esatto esatto allora abbiamo vari soggetti dunque in questo mondo ah la mia signora che è la stessa di cui fa parola anche il predicatore fuori dal dipinto parla di una sua signora di una dea alla quale pregava che non mi ricordo se fosse Ariandel o fosse una mia supposizione cioè se lui però mi pareva che lui dicesse per la fiamma di Ariandel fuori dal dipinto mi ricordo male brucia cosa diceva il predicatore diciamo che fuoco per Ariandel esatto fire for Ariandel esatto lo faceva così e probabilmente stava pregando è possibile Velka Kaitha e così via ovviamente interni al dipinto non è detto che si riferiscono allo stesso allora ci sono magari qualcosa è cambiato il tempo la storia del dipinto ci sono due ceneri dentro quindi ci sono due unkindled qua uno sono io e l'altro c'era già ok e l'altro c'era già esattamente e potrebbe essere sia il cavaliere fuori dalla dall'abbazia che damafrida poi c'è una strega che potrebbe essere damafrida o un'altra persona ah si no esatto a seconda del nomignolo di come uno viene visto ma sai strega anche Velka viene chiamata strega quindi vattela pesca da alcuni esatto e strega è sostanzialmente un dispregiativo in questo in questo mondo narrativo e qui c'è una strega che ha nascosto la fiamma quindi ha nascosto credo proprio la miccia che voleva cioè che avrebbe permesso probabilmente al mondo dipinto di prendere fuoco ok dall'interno e potrebbe essere Frida solo per il commento cioè potrebbe essere Frida unicamente per il commento fatto alla fine della scorsa puntata cioè la fiamma è debole anche se è debole la fiamma puoi passare magari è lei che ha seppellito la fiamma facendocela passare per debole ma in realtà ci sarebbe una fiamma abbastanza forte da dare fuoco all'intero dipinto però non ce lo vuole far sapere ripeto è una supposizione che faccio sulla base di mezza frase potrebbe anche essere un altro personaggio la strega ok esatto e questa strega non vuole che questo mondo prenda fuoco laddove la mia signora ha nascosto la fiamma e ha ingannato nostro padre quindi c'è anche un padre sullivan altro personaggio non ci è dato sapere comunque c'è un padre nostro padre quindi credo che sia un padre figurato tipo un papa un eh sì esatto bravo è una figura e ecco hanno fatto cambiare idea al buon padre mi scrivono in chat grazie ragazzi perché ora non ricordo ok ha fatto cambiare idea ok quindi è Fride ragazzi perdonatemi non Frida Fride questo buon padre quindi in realtà voleva bruciare a un certo punto il mondo come era scritto non sappiamo dove come era scritto ma soprattutto come dice lui delle leggende quando avevano accettato la decisione di farlo esatto esatto e poi invece ehm qualcosa è cambiato e questa strega ha detto no fermi o meglio ha detto no fermo al padre facciamo che ti faccio cambiare idea e invece stai buono quindi io credo che il discorso possa essere ricostruito per ora in questo modo ok se Ariamis è Ariandel e comunque anche se non c'è coincidenza di luoghi c'è coincidenza di fine entrambi i luoghi sono rifugi per i dannati qualora la stagnazione abbia effettivamente raggiunto questi posti per i dannati è la risposta finale alla domanda ci può essere salvezza e pace per noi no perché anche nel rifugio che vi eravate costruiti anche nel rifugio che vi dava protezione da tutte le discriminazioni e le violenze che si potevano subire nel mondo normale e reale si è soggetti a un a un decadimento progressivo inesorabile e guarda ti aggiungo un dettaglio importante che adesso devi mettere nella tua mappa concettuale mentale quindi non potrai dargli una tridimensionalità definitiva e uno scopo una posizione precisa nella speculazione però è importante che tu lo sappia l'idea di stagnazione dentro il dipinto è qualcosa che si può interpretare in questo modo la il marciume quello che sta succedendo come a quegli stolti là fuori viene comunque dal dipinto non è che è un'infiltrazione come la muffa da fuori però il fatto è che essendo un dipinto evidentemente la stagnazione di fuori sta facendo marcire invecchiare seccare e rovinare la tela perché lo fa? probabilmente perché come tutto quello che sembra coinvolgere la stagnazione i materiali con cui era costruito e ciò che lo rappresenta non era eterno quindi questo mi fa ritrattare anche il dipinto di Fried che prende fuoco in realtà è il desiderio di chi dipinge di dare fuoco al dipinto dall'interno però in tal senso potrebbe lei in tal senso da una parte potrei dirti ok quindi lei è la strega perché viene disegnata mentre prende fuoco come desiderano coloro che non la tollerano che non la tollerano perdonami dall'altra parte però proprio il fatto che lei li conservi potrebbe suggerirci il contrario cioè che lei desidera prendere fuoco lei desidera morire in quel modo come tutti gli altri però anche qui perché lei è esente da questa marcescenza che invece tutti gli altri assorbono in maniera così evidente lo è esatto lo sembrerebbe è una bellissima donna non è putrefatta e corvina come loro assolutamente infatti è un personaggio che per ora è difficile posizionare però abbiamo avuto delle informazioni grazie alle scelte di F che altrimenti non avremmo avuto conosce la chiesa nera ne è sicuramente in qualche modo affiliata segue quelle idee e ti ha riconosciuto con il buco oscuro come Lord of Hollows quindi no no assolutamente è vero conosce tante cose molto strana lei è molto strano anche l'amico da qui la domanda ok capisco perché si vogliono dare fuoco non credo servano grosse congetture per comprendere perché gli abitanti di Ariandel vogliono bruciare il mondo esterno è spacciato e loro sono iper firenziani in questa scelta a che serve combattere la natura se tanto combattere la natura ci ha portati qui nell'illusione di poterle dare una direzione l'abbiamo corrotta a tal punto da farci rimbalzare questa corruzione addosso allora tanto vale che ci diamo fuoco è una scelta molto fidenziana quello che non capisco è che cosa abbia da guadagnarci la strega se non brucia cosa si può fare in questo mondo dipinto che non è raggiungibile fuori qual è il fine raggiungibile all'interno del dipinto che porta la strega a non volere effettivamente bruciarlo esatto ci deve essere qualcosa che la strega può ottenere solo qui dentro anche banalmente esilio certo esatto hai capito e quindi lei ha avuto bisogno di convincere il padre a non bruciarlo oppure ancora più banalmente assolutamente sono d'accordo con la chat magari la strega non viene da fuori come io sto supponendo anzi l'ho fatto mentalmente magari la strega non viene da fuori l'oscurità la strega viene da qui è nata qui o comunque cresciuta qui e vuole sopravvivere però siccome in teoria si può andare via da questo posto qualora tu volessi sopravvivere puoi semplicemente andartene se non sei un essere putrido in questo modo quindi credo che forse la strega in quanto tale potrebbe utilizzare il falò per levarsi dai coglioni e quindi la sola sopravvivenza per ora non mi convince particolarmente la stagnazione è arrivata qui quindi non credo che ci siano regole fisiche e cosmogoniche particolarmente diverse diverse rispetto al mondo reale eppure qualcosa c'è altrimenti perché volerlo preservare è qualcosa di diverso altrimenti il nostro corvide non avrebbe detto una frase che li differenzia da quelli là fuori è vero è vero quindi diciamo che in realtà perdonatemi noi abbiamo già la conferma che gente stia scappando dal dipinto sono i corvi che abbiamo visto nella strada dei sacrifici esatto quindi probabilmente quei corvi sono andati via per non bruciare però poi di fatto il mondo non è stato bruciato sì loro sono usciti dal dipinto e quindi la strega non evita che il mondo vada a fuoco semplicemente perché non vuole morire bruciata c'è di più vuole conservare qualcosa di questo mondo vuole conservarsi dentro questo mondo chissà magari il tempo non scorre comunque allo stesso modo si può vivere in eterno magari qui dentro non si invecchia chi lo sa Priscilla però crebbe qui magari si cresce in maniera diversa magari si può sviluppare un potere nuovo che invece non può nascere nel mondo reale Sullivan ha avuto accesso alle magie del congelamento solo tramite questo luogo e quindi la strega studia le magie del congelamento qui eh anche secondo me Megumin vuole salvaguardare qualcosa tipo non deve bruciare questo luogo perché qui c'è questa roba che andrebbe perduta per sempre se gli dessimo fuoco anche Sullivan è cresciuto avete ragione quindi l'immortalità non può essere banalmente l'unica via eccoli qua poverini col culo pieno di merda quindi è la loro lignificazione questa nel culo si cioè quando parla di strega non intendo Fride ragazzi Fride potrebbe essere la strega quando parlo di strega intendo strega non ho certezza che possa essere Fride è l'unica donna che ho visto e ha detto quella cosa sulla fiamma debole ma è molto tirata per i capelli un falò visto culignificazione come ti chiami tu villaggio dei corvidi ah quindi corvidi è proprio il nome tecnico si è ufficiale cazzo villaggio altri sei il ghirino arrivo oh no vabbè io ho il mio scudo il mio atteggiamento firenziano a proteggermi qui ci sono stato mi sa di no 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 qui sei dinanzi alla blind run più totale no 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 intendevo in questo esatto punto comunque no devo assolutamente livellare la barra verde comincio a essere short qui ho visto o dici un oggetto ah si preparati a level design che definire dance pazzo ah pazzissimo fride potrebbe anche essere un uomo stai dichiarando il suo gender beh no mi sembra abbastanza una donna in realtà però magari mi sbaglio e lì c'è un corvino mezzo muerto come cazzo ci arriva a quell'oggetto eh non sembra immediato in effetti mi sa che devo fare un bel giro per beccarlo questo è un tipico caso di mappa 3d perché guarda da lì poi salgo 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 e mi butto e torno di qua quindi devo fare tutto il giretto mi sa questa è proprio la 3d map il segiro era lì no? si infatti era spawnato non lo vedi? oddio no non lo vedo alza lo sguardo è a pe pezzo di cazzo vabbè però mi caga adesso no 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 non farlo arrabbiare fug ecco un altro segiro no non è lui no non è un segiro ok questo è il check per vedere se sono vivi si può entrare? no non si apre da codetto lato sicuro un segiro mi piomba in testa secondo me oh della merda questo è il vero premio ah si si assolutamente il mio coraggio non si apre da questo lato neanche questa si entrerà dai tetti allora per qui si va per la città dolente che stavo osservando giusto appunto poc'anzi mare ma si è vomitato addosso quello comunque è un è Resident Evil 4 sto posto vero? no adesso mi parlano in spagnolo sti corvi aspetta ok è il suo altra merda cosa? detrust the team imbecile aspetta è pieno di strade straducole porco il pallone eh si eh guarda eh nemico temibile più avanti mi caco andiamo va bene facciamo questo mini percorso vediamo se c'è bravo esplora esplora questo è un circunnavigo eh no 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 facciamolo facciamolo aspetta però forse questo è un avanti perché perché di là si fa il giro no 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 andiamo prima qua sotto oh ok è l'alma oscura esatto altra merda no eh in tirare la casa ci posso entrare si ok a posto intanto entriamo dentro la casa una brascina buono goduriosa la situa e nient'altro non si creti vabbè una bella abbraccia muere cavron che poi che vuol dire cavron coglione coglione ok stronzo si si pezzo di cazzo oh mio dio oh mio dio lui è un po' sulliv guarda che c'ha il ghiaccino lui è un po' sulliv è un po' sulliv guardalo guardalo come sulliva salli per gli amici salli ma gli stava anche un pochino clippando lo stronzo vorrei far vedere a chiara un attimo questa cosa importante perché cioè questo fa capire che anch'io potrei diventare un game designer in futuro sappi che qualcuno qui ha creato canonicamente questi tizi con uno stronzo di merda gigante attaccato al culo che non gli stacca mai ok sono dei corvi e li droppano anche proprio gli escrementi guarda è letteralmente un verme di merda che il contatto di emorroidi credo quelle siano maestro mi conferma che secondo lei quelle sono emorroidi come minimo è come minimo quel rossino è proprio è proprio il sanguino emorroidale e quindi niente insomma facevo notare io l'avrei fatto ecco è una scelta che avrei preso è una scelta che avrei preso allora in realtà eccolo qua eccolo oh billy e quindi niente insomma te lo volevo dire quanto sta a me come sta a messo il video lo stai? monitorando e imbreccando ok ok ragazzi oggi youtube non funziona mi dispiace tanto vabbè è andata bene è andata bene è andata bene ragazzi è andata bene nemico temibile però è di là io qui dovrei fare un saltino maestro eh sì perché qui non si può fare nient'altro no ti fa giusto vedere che c'è ancora quel tesoro in alto che ovviamente non puoi raggiungere da qui ma eh no magari posso raggiungere con un saltino vet ma circunnavigando qui intanto vettiamo proprio al nastro mamma mia che vettata ok pensavo meglio sinceramente vero però intanto l'hai preso sento sento ho sentito audio 3d orta miseria che schifo no 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 ti avvelenare ti prego mamma mia ci sono andato vicino eh a prendermi il veneno mamma mia ed è un veneno cattivo questo me lo immagino però con un po' di pureo non fa un cazzo perché veniamo sbagliato ce l'ho il muschio anti questo veleno troppo no no where come here uh buono 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 no 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 non andare via accorciamo le distanze no eh niente persa mi devo buttare ma ci voglio ragionare se buttarmi o no persa eh si non è non è sempre la vostra migliore allora qui c'è l'oggetto qui c'è niente e qui eh qui si può raggiungere però eh ah you found it mi sa che col bastone poi divento troppo pesante però proviamoci tanto me lo metto quanto pesa il bastone due a me è già troppo e infatti sono crasso adesso però è giusto per questa cosa poi torno senza bastone ok ehm tecnica di dranglake ah bravo piume di corvo che cos'è ecco eh aspetta prima di equipaggiare o controllare cosa siano ragazzi io ah sai l'ho scritto in privato sai quando tornerai nel mondo dipinto c'è un'arma che potrebbe intrigare F ah è questa è questa si è questa ok aspetta che la leggo prima spada da a fondo dei cavalieri corvidi aspetta che bevo eh sto morendo parte di una coppia di armi speciali se impugnata a due mani la sinistra brandisce quattro affilatissime lame i cavalieri corvidi quindi faccio il 6 kg anch'io i cavalieri corvidi devoti seguaci di sorella fride ok sorella fride quindi ai corvidi come seguaci giurarono di proteggere il dipinto e allora è lei la strega giurarono di proteggere il dipinto dal fuoco anche a costo di dover sterminare i propri simili abilità dardo piumato scaglia contemporaneamente una versione illusoria delle quattro lame impugnate nella mano sinistra sferrando un attacco potente si può concatenare un affondo nel momento in cui il colpo va a segno oh mio dio devo provarla tipo no adesso prima di adesso hai anche la gemma affilata allora ah ok tiro fuori il wolverine così ok ma ma che figata è però adesso devo riaffrontare il Sekiro cazzo considera che questa è un'arma che arriva a scalare S su destrezze con l'affilata diventa una bestia devo provarla aspettate un po' si si ha delle combo complesse lunghe poi ci puoi aggiungere l'L2 per fare il salto lancia i coltelli insomma non so perché e poi fai l'affondino guarda esatto L2 più R1 che si ho visto fai il saltino e poi fighissimo di Sekiro combo si per ora non fa un cazzo poverina perché non è potenziata è certo questa va provata fuori da Ariandel con il giusto tempo per fare il potenzio allora intanto rimettiamo la nostra arma e qui Sekiro parte 2 però perché le shadows muoiono due volte come insegna Miyazagi e quindi mannaggia però potrei anche skipparlo in teoria forse no esatto it will be wise però dai con le armi veloci puoi provare a fargli i riposti ma io invece lo combatterei con una strategia che ha funzionato ossino no ossino Firenzo farebbe ossino beh Firenzo Firenzo sì come Firenzo Firenzo farebbe ossino esatto ha un attacco potenziato ok da concatenare dopo L2 le potenziamo sicuramente quelle armi mi piacciono un sacco mi piace il saltino ragazzi il video analisi è nello stato in cui abbiamo fatto quello che Michele ci aveva consigliato ovvero stiamo imbreccando il video ragazzi per cercare di ricaricarlo noi non sappiamo più che cosa che cosa fare per farvelo vedere ok in realtà qui posso andare sereno si eh che posso fare in serenità full combo pazza e sgravata adesso devo andare nella strada principale si 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 se vuoi fare le cose per bene c'è una piccolezza che non hai notato si certo che voglio fare le cose per bene e che ti posso tranquillamente consigliare perché non è esattamente il super secreto inarrivabile allora torna nel percorso che hai fatto poco fa quindi vai a sinistra dopo il ponte e raggiungi il ponte a lato aspetta aspetta si stava avvicinando un tizio con una spada enorme ok loro sei qui quindi va bene allora torno indietro si si scusami va bene va bene anche questo tra l'altro vedrai che fa una cosa molto interessante si può perriare per l'essere con la spada allora vai vai prosegui nel percorso dicevo si può perriare si certo ok ora bravissimo il ponte che è lì dietro secondo diciamo il secondo ponte era quella parte chiusa dall'acquedotto dalla quale adesso puoi arrivare dall'altra parte quindi salgo sul ponte e ti butti a destra salgo sul ponte e mi butto a destra allora esatto continua 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 esatto e ti butti a destra ah è vero c'è un oggetto yes c'è anche una tipa mamma mia distrutta ah sciorcattino non proprio è semplicemente un segreto perché non non ti fa accedere a un percorso più velocemente gemma semplice non l'ho mai vista gemma semplice esatto una gemma di titanite infusa si dice che venga apprezzata da coloro il cui sviluppo si è arrestato prematuramente viene usata nell'infusioni per creare armi semplici le armi semplici infliggono danni magici e ripristinano molto lentamente i PA per infondere un po' di coraggio persino agli sciocchi è armi semplici e quindi ora direi ossino ah perché qui c'è seghero e qui c'è seghero si no ossino sono Firenze no ho fatto altare del vincolo vabbè è uguale in realtà è uguale vabbè controlla se puoi livellare ah posso livellare ma quello avevamo detto di non farlo Firenze lo farebbe però no 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 adesso livelli e come mica devi buttare cioè non è che stai facendo 30.000 anime a mob ok ok tranquillo cioè normale non ti preoccupare ma guarda io metto quasi tutto un tempo ok un livello in realtà appunto appunto dicevo allora bello un livellino ah c'è Sirris puoi parlare con Sirris mi dicono che c'è Sirris si bella ah minchia ma lei lei era sparita appunto ho sentito un grande di 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 che sei che potrebbe essere anche lei la tipa del dipinto per come ha il cappuccio non penso che lo sia però probabilmente no però lealtà della luna oscura oh quindi sei una lunina oscura tu ok e non solo esiste ancora cioè esiste ancora cazzarola e allora troveremo il culo di guindolin è ancora attivo secondo me troveremo ancora guindolin allora porca miseria potrebbe non essere smuerto se fosse possibile villaggio dei corvidi allora villaggio dei corvidi puoi leggerlo eh ah la lealtà posso leggerlo non è un non è un gesto ah scusa è un gesto perdonami sì no pensavo che fosse l'oggetto del patto ma no l'hai già ottenuto no no infatti ok ok mi sono preso male no no tranquillo era un gesto era un gesto tra l'altro è un bel gesto è molto figo ok ok mi sono zitto come si possono leggere i gesti non l'ho mai saputo non l'ho mai letto un gesto in vita mia da dar solo su uno esatto allora ok Mario loro ora vengono messi in fuga da Giorgio e io voglio la sala libera non mi voglio far sbrettare da sti cosi in nessun modo intanto stanno morendo di freddo porelli e adesso arriva il nemico temibile in teoria ma da dove dove sei ho visto un tizio con la spada non ho le allucinazioni no probabilmente non sei il suo primario interesse qui dentro c'è una casa con delle mosche dovrei provare a entrarci perché c'è un oggetto è questo? no chi è? ok no è di qua? oh mio dio mi stanno facendo cadere di sotto di nuovo e c'è anche un buco qui oh avete rotti i coglioni eh lui che sta facendo? lui stava ficcando il pisello tipo dentro un mattone esatto ma che cosa fanno? ma mi fanno paurissima qui in mezzo al precipizio ora arriva uno da dieci e mi ammazza oh mio dio stava succedendo davvero ok allora qui c'è un ingressino ma non posso non te lo meriti grazie ok un escremento direi commicia grandissimo sono confuso dove sono? allora qui intanto esatto non posso fare niente quindi ok no non puoi raggiungere la casa esatto quindi posso continuare il giro da qua non me lo merito da qui hai ragione ma da qui si magari beh l'ho allontanato abbastanza in realtà posso ok posso entrare ah che prega quindi in realtà loro sono quelli che vogliono morire per questo che i corvide cavaliere li inseguiva a costo di ammazzare i propri simili credo che loro siano quelli che vogliono morire mentre i corvi di armati sono quelli che servono fride molto possibile ho perso qualcosa qui dentro no non me lo merito ok eppure me lo sono meritato ah qui niente qua sopra c'è una scala lì c'è seghiro e qui sopra stai esplorando bene stai esplorando bene ehi 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 ah voi sapete usare le magie di ghiaccio interessante e scrementi prima estus dal falò attenzione sento il rumore di magia eh infatti immaginavo e questo è interessante perché alla fine appunto hanno anche la cultura di poter castare a questi alcuni di loro almeno vuol dire che era diffusa la magia sulla quale stava sperimentando Sullivan non era semplicemente sua prerogativa la stavano studiando in un bel po' ho visto l'ingresso eh ragazzi non panicate ho visto l'ingresso ma voglio prima sincerarmi di non poter fare altro no ma che cazzo vuol dire scusa è saltino ah ok ok eh sì guarda che quanto intenso il level design qua c'è tanta roba la lucertola quella è una lucertola e andiamo a vedere che vuole oh ragazzi no 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 a parte c'era un Sekiro e l'ho l'ho avvertito quello era un Sekiro l'ho avvertito l'ho avvertito sento il puzzo di Sekiro lontano un miglio non è unico esatto quello era un Sekiro di merda via 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 dicono invece dalla chat che è magia dell'anima normale non sembra quella sì quella sì no no quelle sono sì sì diciamo che sembravano quale di ghiaccio lo sembrano per il lighting però comunque probabilmente non avevano la consapevolezza e la cultura o anche solo la condivisione dell'incantismo pianino 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 che bastardo come se ne approfitta sul tetto è fi molto interessante Sekiro è il momento di giocare ai giochi di ruolo vedo dove mi è più che hai frecce verenate purtroppo no ah però aspetta una cura medievale per il tuo culo che poesia ah no questa era una citazione a Pulp Fiction sì sì credo sia avvelenato no ne hanno lanciati 40 ho paura che passi esatto se insisti magari passi e infatti è passato no oh che sta facendo è passato è passato è passato è passato è passato no 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 è passato ragazzo è passato è passato ragazzo secondo me si butta di sotto se continua ok ok dove mi è più congeniale fantastico e qui pum pum e sì lo sapevo fottiti coglione oddio ce la fa no no tu non rompere le palle chi è ce la farà assaltare Sekiro no no oddio si si invece aspetta ma qui c'è quell'altro due Sekiri due Sekiri due Sekiri due Sekiri due Sekiri mica ho grato anche la I may have a problem non penso mi inseguono fino a qui mi dico nel chat fai il Firenze adesso vai ok 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 penso che sia una torna ok uno però lo posso affrontare volendo basta che non me ne vado da ragnetta ma che fa perché mi osserva in maniera abbastanza fetish Peppe ho bevuto tanto però eh porca di quella puttana ce la faccio? no che fa mi guarda e basta a me va benissimo ah questa era mia però mio ah Firenze win altra gemma affilata? no frammento grande di Tita quasi meglio sto punto quasi meglio beh oddio dipende se cosa vuoi fare ma ora però c'è quell'altro porca puttana eh non posso ossare se no non ha avuto senso battere quel seghi lo capite però secondo me lui non mi insegue fino a sopra il villaggio cioè se riesco a fotterlo facendolo venire qua lo attiro qui poi me ne vado ok ok arrabbiatissimo e ma a sto punto ci ho preso gusto no? eh certo no ho preso il ragno fug questo non era nei miei piani originari questo non era nei miei piani originari questo non era nei miei piani originari ma arriva la ragnazza sì yes frammento grande di tita mamma mia F requiem proprio eh mamma mia ragazzi F mamma mia entrambi i sekiri let's go maestro è fiero di me molto ti vedo ti vedo in controllo bastava poco ora si che sekiro die twice adesso vi dovete immaginare ok lo dico per i fan artist che in realtà Firenze F ogni volta si stia fermando a leggere l'anima oscura del tipo ah ok quindi qui Firenze avrebbe fatto questo ok capisco e poi funziona e lui è un po' scosso ok devo rifare tutta la cazzo di strada che ho fatto però che non so cosa c'era lì dietro ma purtana la miseria qui non ci voleva sto danno sto finendo oh cazzo sto finendo non era qui che dovevo andare va di qua ora qui troverò dei tizi che sono caduti di sotto prima devo stare molto attento mannaggia non devo prendere danno qui che bisogno c'è di dare fuoco a Ariandel dicono quando puoi sterminare tutti giusto arriviamo alla fine e così salvammo Ariandel non dandole fuoco però sono tutti morti ok l'ha fatta? no Chiara mi dice che io sono un po' demoralizzato per questa cosa che vuol dire? però ora se gli date tempo farà eh ok dicono che ci sono problemi con il server di youtube io sono un po' demoralizzato da questa cosa palle youtube scrivi in pagina di che lascia elaborare quanto è? sempre 360? ok vediamo ragazzi vediamo secondo me con l'embreccata se gli dai tempo si si dice Michele solitamente con l'embreccata se gli dai tempo va vabbè ragazzi vediamo capiamo un attimo allora qui decisamente non vorrei buttarmi però il secchio era proprio qui davanti o era qui? no era qui era qui quindi in teoria potrei buttarmi per vedere cosa c'è però c'è una porta ci sei già caduto prima però mi so eh infatti forse no forse no forse no nel caso di un'occhiata non ti ho seguito così tanto nel dettaglio adesso in quel momento di combat vediamo ragazzi prenderò un po' di danno questo è il problema eh nulla in realtà qui c'era già stato è stato inutile no però vedi c'è un vantaggio aspetta lì c'è uno zetto esatto allora non l'avevo fatto esatto moneta d'oro arrugginita che già abbiamo però vero? è quella che aumenta la fortuna corretto? sì oh fuck ma lì? quella è altra roba ancora eh sì te l'ho detto che era un level design allora andiamoci a sto punto proviamo a fare questo pezzo e poi ossiamo però perché non ho più cure ecco sapevo io che sarebbe successo ora qui non dovrebbero avere gittata devo ucciderli prima sento il rumore di qualcuno che corre molto velocemente e ho paura questo è un salto non capisco prendiamo proviamo a prendere l'oggetto via 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 ok sono vivo mi sa che ossare adesso è la scelta giusta però benché vorrei esplorare questa casa probabilmente c'è qualcosa di gustoso qui dentro ma in realtà si può passare non avevo visto io bene devo stare molto bene attento devo stare molto bene attento devo stare molto bene attento perché tra poco sarò sottotiro e lo scudo non mi difende dalla magia eh no la magia no sei stai esplorando bene ma adesso avresti bisogno proprio di un bel ripristino già diciamo che i due saikiri mi hanno millato tutto quello che avevo racimolato sì in teoria comunque qui non sono sottotiro da nessuno e questo è un luogo che ho già esplorato di fatto o no forse no no sì è l'inizio questo questo è dove porta poi all'oggetto sì 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 ci sono ci sono quello è da dove vengo mentre qui ci dovrebbero essere dei nemici qua dietro sì ah sono proprio anime ricercanti i bastardi e c'è anche un oggetto allora qui ce la dobbiamo giocare veramente come dei fighi dobbiamo aggrarne uno solo yes arriverà vomitini arriva chi ha fatto l'anime ricercanti mi sa eh lo so ma non mi prende capito che non devo neanche cadere ok bella attenzione alle anime potrebbero arrivare qui ok ora no rimettiti in posizione rimettiti in posizione yes vai oh no mamma mia quanto l'ho rischiata ma non posso buttarmi da lui perché se malauguratamente mi rende in fa Non ci posso credere Non è morto Ora si Ora l'altro si può fare in teoria anche senza questa roba Perché non ha le anime E invece ce le ha È un caster Un caster di merda Io pensavo Ok andiamo Ora non me le può fare Mentre è interrattato A posto Ok nice Caster con la merda in culo Ok e non è servito a niente tutto questo No per prendere l'oggetto invece Esatto Artigli di corvo Ush baby Leggerei dopo Sono in fase di precarietà estrema E che cazzo però Osso Però quella scala non l'ho mai presa Sì forse sì E che se muoio adesso è veramente da babbi Dovrei usare il bastone Magari posso tirar via la torcia Ora che non sto esplorando quella parte E mettere il bastone da casting Ce l'ha fatta? Ragazzi Saremo online adesso Ah non è in break La seconda Ah ok Eh vabbè boh vattela pesca ragazzi Mai successa un'elaborazione così lunga Eh vabbè Allora Adesso in teoria mi butto Non ci dovrebbero essere nemici Spero Maestro ho tanta paura Ma qui da dove vengo In teoria Stai andando bene Stai andando bene Però sento Sento rumori Forse c'è qualcuno Eh no Questa è una casa mi sa Della quale Non potevo aprire la porta In teoria Questa è una zona nuova Maestro Stai facendo Shortcut Shortcut Sì è così I nemici sono qua fuori Evitiamoli Perché adesso in teoria Posso fare lo shortcut Pazzo Ossare E arrivare fin qui Esattamente E ripartire E ripartire Da dove sono Da dove ero rimasto Ma a estus piene Esatto Mi sembra la cosa più ragionevole Andiamo Ossiamo Si possono comprare Gli ossidi di ritorno Vero? Sì Sei In controllo Anche di questo Bene E Assolutamente ragazzi Le letture le facciamo Adesso La scheggia di estus No Non la faremo adesso La lettura invece sì La moneta no Perché la moneta L'abbiamo già letta Allora Leggiamo l'arma Erano artigli di corvo Vero? O penne di corvo Come si chiamava? Artigli di corvo Artigli utilizzati dai cavalieri corvidi Le cinque lame causano gravi perdite di sangue Questa è proprio l'arma dei seghiri I cavalieri corvidi Devoti seguaci di sorella Fride Giurarono di proteggere il dipinto dal fuoco Ok Stessa identica cosa Assalto rapace Allarga gli artigli come ali E scatena un tremendo turbine di attacchi In rapida sequenza Voglio provarli Voglio provare anche questi Queste non scalano S Non ricordo se arrivano all'S Cazzo bella però Eh sono armi soddisfacenti Ragazzi il video analisi è in pubblicazione adesso tipo Aggiorno i ragazzi Perdonami se mi permetto di aggiornare Figurati Ma ogni tanto giustamente mi chiedono Madonna che bella però sta mossa Cazzo queste potremmo farle davvero velenose Altro che Diventerebbero veleno più sanguinamento Sì Allora in teoria La porta che ha aperto è quella Fino ad A Fino ad A arrivano queste Fino ad A Eh no le armi con S sono poche esatto Non so quale mi ispira di più Tra questa e quella E questa quale piume Eh devi esplorare le tue sensazioni E poi puoi creare Sceglierò Esatto sceglierò in corso d'opera Entrambe immagino si tirano su con la titanite Giusto? Sì Normalmente Intanto rimettiamo le spadeone di Farron Per ora è quello che ci siamo Vai vai Ora sì che puoi proseguire Allora la porta non può essere questa Perché questo era il falò Quindi sto un po' ombriaco Però è una di queste qui Eccola Lei credo Qui ci dovrebbe essere una scala una certa No non è questa Mi sa che non è quella Allora è la prossima tipo È comunque da questo lato per forza E' dal lato del tizio con la spada Appena arrivi a destra la troverai Sta qua? No No I don't think so Questa Prima Ok No Porca puttana mia Si è calato addosso No no dai Non mi ammazzate così Mentre sto cercando la porta Eh Porca puttana è arrivato Eh non ero pronto Lo sei andato a trovare Quella tipo Eh infatti Sì Eh infatti Ok ok E lei Ma Purtroppo ho sprecato tante Estus Ma risiediti al falò È lì accanto Sì È veramente lì Letteralmente alla porta accanto Esci da qua e vai a sinistra E c'è il falò E questa? Sinistra sinistra No sinistra dall'altra parte Oltre il ponte Ok Esci vai a sinistra Ah ok 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 Ah ma minchia era così vicino Esatto Ragazzi Starò anche giocando bene Ma non è che il mio orientamento migliori Giorno dopo giorno della mia vita Oh dai dai Quindi è questa È questa giusto? No No E questa cos'è? Questa l'ho esplorata Qui è dove trovi il corbide che ti parla Ma lo stavo per pestare come uno stronzo Ok è questa? Su per il ponte vai a destra Sì sì è questa Esatto Lo stavo per rompere di botte Michele Lo stavo veramente per Stavi Stavi per fargli la sorpresa Sì Ma non dovevi salvare Arianda Eh Eh Ok Ok Painted ashes Ma anche un po' di Painted Snow Ok Io non credo però Che sia possibile Fare granché altro Qui ci sto tornando Più per Perché io mi ero Eh giusto 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 che c'è Mario Draghi qua Eh qui me le prendo nella schiena Sono sicuro Provo a rollare ora Ma ce l'ho fatta in realtà Eh no Me le son prese uguali nella bocca Ciao No me l'ha fatta Va bene Allora lì è dove mi son buttato Eh no però Perché aspetta Mi sono buttato Mentre non ho preso quelle scale accanto Per salire sul tetto Per salire sul tetto Passo Perché io sono sceso qua di sotto Giorgio Ha rotto le palle Ok Io ho fatto questo Ma non ho fatto questo Questa vettata Non so se ho già preso queste scale Non credo perché c'è un oggetto là sotto Non sputerai Non sputerai Maledetto pezzo di casa Qui c'è pregopoli Oddio Qui ci sono già stato In realtà era Non te lo meriti Ma forse avevo esplorato male E c'è un oggetto lì Io Beh è tutto molto denso Quindi io ti ho visto salire Su quella scala Ma magari non hai ottenuto Un oggetto lì vicino Può essere Nel senso Tu vai pure Guardati intorno Ok Qui ci sono stato Però c'è un oggetto Che non avevo preso Che ho visto in lontananza Che è questo qua E per prenderlo Basta fare questo Ok grande anima di viandante Però ci siamo Qua abbiamo fatto il giro Dobbiamo andare Perfetto Al tizio cattivo E sgravato Assomigliano davvero a Mario Draghi Sono d'accordo ragazzi Presidente del consiglio dei ministri Della magia Giusto Ecco qua Madonna che paura Che fanno i seghi riappesi Eh lo so Maestro Ma che bella serie Stiamo portando In live Guarda È stupendo Comunque Quanto è invecchiata Incredibilmente bene La scorsa live Con questa Appunto Ma come fu il pontile Come fu le catacombe Ok ci siamo Siamo di nuovo qua Non penso Mi inseguano Però Voglio provare No ok Hanno un po' di range Ma non lo avranno a breve Credo Dai Lali Posso avere una coca Please Ok muori Mostardo Ah ma mi sta già Mi sta già bersagliando Con le frecce il bastardo Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Ok sta arrivando Sta arrivando Minchia un cavaliere Grossissimo Eh si può perriare Ma è Raffaelle di Soul Calibur Questo è il problema Esattamente Benissimo Non è per niente congeniale No non è per niente congeniale Non è per niente congeniale Mamma mia Eh qui si muore Sei in una situazione un po' sporca No qui si muore Ma va bene che si muoia Qui perché le anime Le anime le raccolgo subito Però Esatto Ora che non ho fatto Non faccio più il giro del mondo In 80 giorni Per aggrare mezzo mondo Crediamo Cioè creiamo una situazione Di congenialità Alla Fidenzo modo È la prima morte Sai che credo c'è Sì grazie alle ossa del ritorno Sei stato molto tattico Questo è un muro Questo è un altro muro Ma stavolta dobbiamo dimostrare Di aver assimilato La Firenzo modo al 100% Esatto Quindi Questo è importante Tra l'altro questo appunto Lo vedi è Particolarmente Più cattivo Perché non è soltanto Un corvide Che utilizza le lame di corvo Come uno scout veloce È proprio un guerriero Contatti che avanzate Guarda che li ammazza Guarda che li ammazza Esatto Quindi avevo ragione Scappano da lui Quella sarà la nostra arena Z Bello Tu usi l'arma Che ho trovato Oh cazzo Devo studiarlo E devo usare questa colonna È evidente Scusa Sto riuscendo a posizionarmi Decentemente No questo è Molto molto difficile Questa è una sorta di Mid boss praticamente Eh sì Tu fallo arriva Ora ce l'ho E sono a full vida E non bracciato però E non bracciato Ma va bene uguale Quindi No no infatti Infatti Ok Bella mossa Ecco Quello è un attacco Che si può effettivamente Perriare con un certo Istinto Perché Carica il colpo E lo puoi anticipare Ah ma Trapassa lo scudo lui Il bastardo Quello stocco Eh no È terribile Sì sì Lui è veramente forte Oh mamma mia Si fa Si fa Bisogna solo imparare A studiarlo bene Esatto Hai anche lo scudo Per i perri Adesso piuttosto che È la finestra terribile Di katane E armi speciali Però comunque Non è da fare Con leggerezza Bella 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 Devo usare la colonna Ti devi sbilanciare tu Bastardo Mio No Sì invece Yes Ah Ho voluto troppo Due colpi Però non me li posso permettere Di nuovo la colonna Di nuovo la colonna Ok Ah non pensavo mi prendesse No Quasi ragazzi Che è successo Ehm Ha trapassato la colonna Non so Ah Ok 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 Ci siamo Cioè Il primo try Ci ha shottato Il secondo try Buono Però la colonna Non è 100% True True combo Quanto gli abbiamo fatto L'abbiamo lasciato Un terzo tipo Un terzo Mi è sembrato Dallo schermo Sì Ora lui arriva Mi prendo le anime E me ne vado Ok Ora distratto Da loro Però vabbè È il casino Ok È arrivato Fantastico Mio Ok top Via Via Sta colonna Protegge e non protegge Porca di quella puttana Top Ah Mi ha preso di nuovo Mentre bevevo Cazzo Praticamente le frecce Le No Questo sbaglio Esatto Ha un pattern È più sbagliato io Mamma mia Ho rischiato la morte Le frecce le para la colonna Ma le ha spadata no Buono Qui gli andiamo anche di caricato Ci proviamo Vai carica Non ha funzionato mai nella vita Ok Però possiamo bere Mamma mia Sono quasi morto Per provare a bere Ma bella È andata bene Ok Praticamente tenendo lo scudo Noi siamo safe Qui Eh però lo devo tenere lo scudo Cioè se dico tenere lo scudo E poi non lo tengo Sono stronzo no Eh niente Qui abbiamo perso la safe zone di Chiara E quindi ora siamo nella merda Eh niente Qui Ho preso il Pines Trovo a fare un po' di spasingo Ce l'ho fatta Vai 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 Sono attratto dal tuo combattimento È morto? Non me lo dire che muore così No ok Semplicemente De aggrado perché è pazzo Che fa? Oh mio Oddio Ok via Non ci posso credere Era quasi morto Cazzo Eh sono chiuso In un angolino di merda Sì non è una bella posizione Con lui L'ho ucciso Grande Frammento grande Lui non sarà un Manco per il cazzo Vero? Responderà come Lui è un po' speciale Ma ne riparleremo Io devo ossare Non dell'essere Ragazzi Però vabbè Più che ossare Torno direttamente indietro Tanto se mi ammazzano Quale ripio? Beh si dai un'occhiata A cosa c'è oltre lui Prima di ossare Ok Ti trusto Vai giù È stata bellissima Questa battaglia Mi è piaciuta davvero tanto Comunque tre try Eh ragazzi Stance Firenziana No non si apre No Che significa? Che non è la strada Per raggiungere Il cancello Deve essere Aperto dall'altro lato E come cazzo ci arrivo? Ho finito le strade Qui in teoria Probabilmente La tua esplorazione Dei tetti Era ancora parziale Eh si per forza Per forza Devo arrivare Su quel tetto Guarda Ok la strada è questa Guarda Bravo Ok Allora Cioè Falloiamo Adesso si Però dobbiamo sperare Che non agri Di nuovo Franco Però in teoria Non lo dovrei agrare Forse è unico davvero Perché non ha senso È un mostro che non blocca nulla Forse lui è davvero unico Lo scopriremo presto Cazzo 27k di nuovo Vai Livellino Dici Me lo merito? Che no Ma certo che te lo meriti Va bene Beh oddio Effettivamente me lo merito proprio Cazzo Eh Ok Andiamo più che altro Anche a vedere se riusciamo a potenziare le armi Oh Vediamo un po' che succede Forse potrebbe essere arrivato il momento di potenziare le discolame Nel senso di cambiarle con altre armi veloci più potenti Oh Cioè di switchare le discolame con qualcos'altro Però cosa? Perché ce ne sono due mi piacciono entrambe Esatto Questo è difficile anche perché hai una gemma affilata Io darei la gemma affilata sulle piume di corvo e quella avvelenata su quelle che già fa sanguinamento Bello Piume di corvo Mi hai detto che arrivano S vero? Sì Aspetta fammi provare Senza provarle in faccia a Andre magari Qual era la combo che mi dicevano i ragazzi Aspetta eh Loro mi dicevano L2 più R2 Ah Invece la combo La combo normale è proprio stoccanza Che però con scudo diventa Sempre stoccanza Ok Infondi arma Affilata Ora B E poi potenziandolo arriverà S Giusto? E l'hai affilo? Sì esatto L'affilo L'affilo Oh oh Ne potenzio Ci siamo Vediamo come diventano Più 1 Più 2 Cazzo non riesco a fare il più 3 Ah però aspetta il frammento si può comprare Il frammento si Allora vado Ormai si Ready Be careful Oh Maestro L'hai crashato? No dimmi scusami Mi stavi dicendo Ai? Ah no perché sto venendo un pochino Ah Rato Ok perdonami Sì Ehm Oh No adesso hai ottenuto Oh più 5 Mamma mia Hai ottenuto la cenere Che ti permette di comprare le titanite Ah già è vero Ma ce n'ho anche un'altra forse no? Eh sì eh Ceneri del paladino Oh E cosa mi fa acquistare di nuovo? Tanto prendiamo due ossini che ci stanno Queste le abbiamo lette Queste le abbiamo lette Questo è il nuovo Anello dello scudo di Lloyd Aumenta l'assorbimento dei danni quando i pv sono al massimo Anello donato ai cavalieri della via bianca Ricordato con lo scudo della casta del gran maestro Lloyd Potenzia la quantità di danni assorbiti quando i pv sono al massimo Molto tempo è passato da quando l'adorazione di Lloyd era parte della dottrina della via bianca Quindi ora non lo neanche più Sullivan l'ha trasformata del tutto I chiarici di Karim hanno sempre sostenuto che Lloyd fosse un ciarlatano E che si fosse assegnato il titolo di gran maestro da solo Quindi Sullivan è arrivato anche come purificatore del nome della via bianca Attraverso l'ostracizzazione della figura di Lloyd E per questo che Karim si è convertita a Kaita Capito? E alla via bianca Bravissimo Perché crede in Sullivan Molto di più di quanto invece non vedesse in Lloyd un ciarlatano Giusto? Di questo ne parlavamo Sin da Dark Souls 1 Ecco qui Ecco la descrizione che lo ufficializza Figa cazzo Mamma mia Però che cosa vende poi di nuovo? Ha un amuleto del duellante? Anche questo è nuovo Strumento usato nei duelli Annulla gli effetti speciali a dare per un breve periodo I cavaliere del gran maestro Lloyd sono vissuti col terrore per le sue sentenze Che eseguiva con la sua spada della legge Pezzo di cazzo E non vende più le titaniti? Ah no è quelle qua Eccole qua Semplicemente non vende altre titaniti Esatto Non ancora Ah vende anche la benedizione nascosta adesso Interessante L'abbiamo già letta ovviamente All'Othric si trova una tomba abbandonata Un luogo oscuro dove riposano i guerrieri senza patria Solo la regina si premurava di augurare un buon viaggio a queste anime perdute Una tomba abbandonata Ma è quella di Velka? Ma è strano Non l'abbiamo ancora trovato secondo me questo luogo E la regina forse era come dicevamo prima in realtà semplicemente Guinevere Non avevo mai letto questa benedizione dopo aver capito che Guinevere fosse la moglie del re Eh diciamo che mano a mano le descrizioni possono assumere anche diversi livelli Si chiama benedizione nascosta perché lei è in incognito Eh potrebbe eh Bravo C'è un talismano nuovo che vende Questo qui l'abbiamo detto prima no? O non era Questo di cui Ah questo qua Ah minchia Grazie mille ragazzi Un talismano per i miracoli divini si chiama talismano del dipinto Talismani di tela come questo sono simboli austeri utilizzati dagli araldi Per lanciare i miracoli equipaggio una campana sacra un talismano Però purtroppo niente di interessante No no altrimenti te l'avrei detto però mi fa piacere che la tua chat ti faccia vedere anche piccole cose No no esatto Grazie anzi È una figata sono contentissimo bravi ragazzi Allora È tempo di provare i danni di questa roba È tempo di provare i danni di questa roba Scheggia di Estus bravi Scheggia di Estus e frecce bravissimi E frecce Corretto Quindi ti stai proprio preparando al top Mi piace Vai No E invece la scheggia ce l'avevo già Ci siamo confusi tutti Anche io pensavo di averla No ma la No la scheggia si ma no Forse si sono confusi Devi bruciare la polvere d'osso Ok aspetta però Fammi prendere Le frecce di fuoco che in questo posto potrebbero essere importanti su quegli alberi di merda E ne prendiamo Un cinquantello Si si serenamente E poi prendiamo anche la freccia No la freccia pesante Perché le frecce normali non fanno più una sega E prendiamo un cinquantello anche di queste Serenamente Poi Prendiamo le anime che abbiamo raccolto finora Perché ne abbiamo raccolte un macello Quattro Le usiamo tutte Quattro Facciamo goduriosi 9k E ce li ficchiamo nel culo Mannaggia Non è sufficiente per fare un livello L'anima di Gran Bosco non la userei Questa non da niente No Poli fogoli E niente qui non livelliamo Vabbè abbiamo comunque fatto un potenziamento a più 1000 Si Diciamo che hai fatto il tuo percorso Brucia le ceneri Brucia le ceneri Corretto Non ce le ho Quindi niente Ah l'hai già fatto allora Ah ok ok Tutti ubriachissimi Perfetto Perfetto Ragazzi anch'io pensavo di aver da fare qualcosa con le Estus Invece Anche l'arco potremmo potenziare Si Non adesso ma lo faremo Compra delle tita da mettere da parte E dopo dopo così facciamo anche archino tattico Madonna che bella live oggi Densa di palle proprio E non è finita Densa di palle E non è finita Io sono abbastanza carico perché penso proprio che Arriveremo Arriveremo Vedrai una cosina Beh 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 faccio male adesso Più che altro faccio male con un cazzo di stamina Tra l'altro Così faccio proprio Prey D Be careful Beh non male Voglio vedere se Franco è unico o no No non è unico Esatto Decisamente non lo è Vediamo se riesco a affrontarlo con Tanto se muoio riprendo le anime vado via Voglio solo fare una prova con queste nuove armi Che tra l'altro sono le sue Ci sono andato Veramente molto baldanzoso qui Ah non pensavo tirasse la merda Eh però non staggero Non mi conviene qui Hai visto? No esatto Con le armi leggere Quello che puoi provare a fare Sono perry E Backstab Perché altrimenti Sì Non staggero In questo In questo posto Mi convengono comunque le armi Le armi pazze Dei guardiani Sono ottime Ma non in questa condizione Qui per ora Continuiamo Come prima Stocco rating Mi dicono Perché il suo stocco è più grande del mio Ma avete ragione Ah lui ce l'ha con me subito Se Se vado Cioè non gliene frega niente Dei popolani A quel punto E no Se vede Se vede la cenere Se vede un guerriero valoroso Non è vero Ok Eccola lì Questa è una weapon Ah mi fa danno anche cadendo Eh lui è spinoso Antipatico Fortissimo E Bellissimo E Una dichiarazione di erediti Sopra i 75 mila euro Bravissimo Paga anche un sacco di tasse ragazzi Esatto No 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 Ok Eh a sto punto lo sto risfidando ragazzi Sì avete capito bene Non credo proprio Ci ho provato Ci ho provato Volevo perriarlo Hai molti più essos dell'ultima volta Sì è che sto facendo anche un po' di esperimenti Ovviamente Arma nuova Ah Pensavo di averlo in pugno Mio Gemma affilata Che goduria Che goduria Che goduria Il goduto di sodio Mamma mia Il goduto di sodio E si affila Questa è la classica Vera Stupenda Soddisfazione del gioco di ruolo Di affrontare un'area difficile E avere i premi Mamma mia Turbine di godo Mamma mia Allora scusami Sono Prova a vedere se posso fare un livellino No vabbè No 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 I veri figli non livellano adesso Mamma mia Mamma mia Goduto di sodio Così si fa Ragazzi questa live È bella Perché è come se fosse un'unica puntata Insieme alla scorsa Esatto Cioè io sono proprio Rufi Che Avete visto la saga della CP? No tu hai visto One Piece? Sì Ok io sono Rufi Che è caduto davanti a Lucci Sì Sì E poi Si rialza mentre fuma E fa il gatlingo Però dobbiamo risalire sul tetto Corretto? Corretto Troveremo la strada L'avevo già intuita prima Ma ora l'ho già dimenticato ovviamente In quanto sono Zoro Beh diciamo che qui Senza troppa colpevolezza eh Ok ok Allora in teoria Dobbiamo fare il girello Che avevamo fatto l'altra volta Oddio lui si è scetato però eh Spero non mi insegua Ma non credo mi insegua sui tetti A se poi lo fa Pace Devo prendere la scala Tanto qui penso di poter fare serenamente Lo schipperone ripperone Non mi sta inseguendo Mario No eh Leggo in chat spam di dove vai Quindi non è Questa la strada giusta Ok Ma non è questa la torre che devo Non è questa Ah questo buco qui Oh attenzione qui c'è un buco Oh You found it Finally No la chat la mia chat Roba da schiavo c'è Ok 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 Buono 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 Eh roba da schiavo la leggiamo a breve La leggiamo a breve perché schiavo è una parola interessante Ah ok quindi era quella Ok ok Semplicemente la gente era presa male Così a caso Adesso invece Ah si ma posso arrivarci uguale Dove voglio arrivare da qui Dai dai stai andando bene Ora si che stai tornando in alto Aspetta non da qui Mi butto da di qua Continua Tu cerca di salire il più possibile Eh ma ci sono Devo trovare la torre ora In teoria la trovo facendo il giro da qua E poi salgo Si si ci sono ci sono a posto No 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 ma Ma non si può morire così Firenze lo faceva Firenze un po' Esatto Ma non si può morire così Ma non si può morire così Adesso devo recuperarli tra l'altro Quei robi Ah ma intanto li trovo di sopra Dove sono caduto In teoria Giusto? Il sì Esatto Ricordati che La pozza di sangue Con l'anima È qualche secondo prima Esattamente Per ora sto sbagliando di nuovo strada È un casino sto posto Ok perché effettivamente Devo fare Questa strada qua Mario Dragopoli Girare di qua Girare di nuovo di qua Stare attento ai tizi Che ora mi sparano In bocca Fantastico Prendere il scala Esatto Questo è lo zoro Insito Ma infatti leggo Che la gente mi dice Che in realtà Anche questa strada Che sto facendo È sbagliata Ci sono Modi più veloci Di raggiungere l'obiettivo Ma Eh sì ma io devo capire Dove cazzo sono le anime Ragazzi Choose your destiny Esatto Questo è il mio problema Attuale Dovrebbero essere tipo Qui Non sono caduto qua Da qualche parte Ragazzi dove cazzo Sono le mie anime Ah sono lì Cazzo Va bene Oh le vedo Però devo riuscire a non cadere Adesso Con calma Con calma Ah perché ci potevo arrivare Dallo shortcut Giusto Giusto Esatto Giusto Corretto Corretto Vabbè ma io Ma io non mi so orientare Ragazzi Sopportatemi Sopportatemi Ok Faccio il mio giro lungo E arrivo a destinazione Aiuto Ecco le anime Fantastico Adesso ricado come prima Per paura di prendermi Le botte No ok Le ho prese le botte Quindi basta Non puoi aver paura Di prendere le botte Se prendi le botte Ok Un mio dio Mamma mia Quindi vuol dire Che mi prendono anche qui Infatti mi avrebbero preso Se non mi fossi tolto Mamma mia Mamma mia Arrabbiatissimi Via Ok E adesso devo salire Mamma mia E poi leggiamo Leggiamo Le vesti Dello schiavo Ragazzi Perché mi sembrava Un set piuttosto importante Era vestito di rosso Sembrava il sigillatore Di Petilondo Però È evidente che non lo possa essere Eh Qui mi fotto Probabilmente Eh vabbè La lucetta L'ha già partita Go kart Martina Pam 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 Fantastico Allora qui c'è un buchino Però Però È arrivato È arrivato finalmente Però si cade Parecchio Ci si fa male C'è anche un sekiro Dentro E Madonna che posto di merda C'è un sekiro E un cavaliere Allora Permettimi a questo punto Io Come noti Anche nel farti perdere Stavolta non voglio aiutarti Ora sì In certi momenti Arriva Mike Ascoltami Sei Praticamente Sopra La struttura Bravo guarda C'è il cancello Esatto No no avevo riconosciuto Esatto E allora ti dico Non far altro come priorità Di aprire quello shortcut Certo Così almeno Non fare nulla Che non sia buttarti Su quel cancello E aprirlo Certo Certo hai ragione Perché almeno se poi muoio Arrivo qui Mi raccomando Bravo Ok Sì E non mi sento non neanche Perfetto Grazie maestro Il suo consiglio è salvo Figurati In certe cose Buongiorno Interagisco Ah no quindi non era Oh sì che era un Sekiro Mi ha sentito il Sekiro? Scopriamo se sono intelligenti E fanno gioco di squadra Ma è troppo vicino Vieni vieni bravo Vieni vieni Bravissimo Perfetto 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 Allora si sente già più suagio ormai Sono pericolosi Ma occhio al sanguinamento Che ti apre come una lattina Devo essere full vita Il problema è che sono partito storto Sì Il primo colpo Eh vedi Sono partito storto qui Secondo me ora cominci Che riconosci un po' meglio Anche a poter provare Magari con il primo colpo della combo A fare il Perry Però La cosa migliore che puoi fare Esatto È resistere E Usare lo scudo Senza esagerare Perché il sanguinamento Purtroppo No ma loro si affrontano Abbastanza serenamente Che mi ha preso proprio Alla sprovvista Ragazzi vi chiedo Perdono Leggo quando mi sento Diciamo un po' più al sicuro Voglio arrivare a un punto Se adesso mi fermo a leggere Perdo il momentum Del Ok Ah però adesso Devo fare lui Però se vado da questo shortcut Dipende se vuoi proprio pulire l'area Questa è una cosa Che secondo me Ti consiglio di fare Eh aspetta però Almeno una volta Però Devi essere pronto Perché Ce la puoi fare Ce la puoi veramente fare adesso No no ma Questo sono sicuro Specialmente Il punto è a quante Estus Esatto Sì ma una volta che La regola La regola Hardcore Del pulisco una volta E poi posso rushare È sempre valido No no certo Però se si rush con lui Mi insegue fino a di là Sì E non me lo posso permettere No no ma infatti Per questo ti dico Di pulire la prima volta Perché prima esplori Poi la prossima volta Ah sì sì certo Certo No 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 Non è vero Ti ho fatto questo errore Stupido in culo Mamma mia Mi sono mangiato il backstab Della mia vita Eh qui però Ho consumato tutte le Estus Davanti a lui Non va bene Mannaggia Questa la sto giocando Proprio male Dovevo ragazzi Scusate Ok Ok Eh Bravo Painted ashes Painted snow No Che cazzo faccio Ok Ok Facciamoci trovare preparati Dove va Ok No No Mamma mia Stavo turbo Fottendo da solo Con quest'albero Non devo rollargli Non devo rollargli Non devo rollargli Quando fa quelle robe Ah cazzo il sanguinamento Eh quella è la vera trappola Eh Adesso senza Estus Allora Quello che puoi Provare a fare Intanto è Esplorare Prima di entrare Già fai una buona parte Di controllo Della situazione La controllo C'è un tizio Su un Altare Anche da fuori Intendo eh Intorno All'edificio Insomma Prima di affrontare Non entrare lì Per favore Qui dentro o no Ti prego Chi è? Chi è? C'è qualcuno Arrabbiatissimo No Ah ok 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 Vabbè vabbè Pensavo peggio Vabbè tranquille ragazze Tranquille A voi sono abituato Figurati sia un problema Ma mi ammazza Ma dove va In che direzione vanno I fiati? Non entrare lì Ti prego Mi uccide No Cioè ti lascio libero Di fare quello che vuoi Però non entrare lì Ti prego Allora aspetta Che qui Tiriamo Freccine Le fuego Ma arriva fino a qua Quel cazzo di Coso Eh oh è All'alito Importante Quindi lei che fa Piange perché Il suo mondo Sta finendo Può essere Ma mo come scendo Eh Questa Mario Maria Mario qua Arrabbiatissima In teoria Ce la faccio Secondo me Muoio No Sono vivo Non so con quale Miracolo divino Ma sono vivo Il problema è che adesso Secondo me aggro Come minimo Gianni Morandi Laddietro Oh un pozzo Surprise Perché mi hai chiesto Di andare in giro Maestro È pericoloso Molto meno Dell'interno Molto meno Dell'interno Eeeh Yes È veramente Resident Evil Comunque Ragazzi io Ribadisco Torna nel pozzo Torna nel pozzo Torna nel pozzo Bastardo Vabbè ma questi sono Innoqui In teoria Cioè Adesso mi guardano Eh vaffanculo L'ho detto Ma il veleno mi fa danno Oltre a mettermi veleno Non dovrebbe Al massimo ti sordisci un poco Ma non credo Ti faccia Non ci arrivo Ok Stai buono Stai buono Maestro mi dica che si trova un falò nelle vicinanze La prego Me lo merita un falò qui eh Cioè qui è importante Hai aperto lo shortcut Hai fatto tanta strada Proprio in nome del fatto che uno shortcut non lo avrai Hai ragione Hai ragione Hai ragione Non posso Vabbè adesso Adesso almeno sai Ti sei fatto un giro Eviti di rischiare la pelle la prossima volta Per tornare Adesso Puoi provare O a combattere la pazzia O a lutare Oppure Sali sul tetto E lo attacchi a distanza con le frecce Però lui ti può lanciare i coltelli No infatti Io lo affronterei E basta Però abbiamo un problema Lei Ah ok ok Sì lei è viva Cioè se lei comincia a spammarci roba Mentre combatto con Sekiro È finita Ma che cazzo Mamma mia Sì Attacco speciale nuovo È finita Torno a casa base Eh nope Ragazzi Finisce qui così Però Ti sei tolto tutti i dubbi Tranne l'interno Che ha ancora Non ci avevo pensato Ciao braciola Ho fatto il chad Fino la senza braciola Ah buono Questo è il premio per essere chad Ma l'avevo fatto caso Al fatto che non avessi la Manco io Me l'hanno detto in chat Bella lì Ok ragazzi Uno contro uno Una stock Final destination Non mi è per niente congeniale Qui fratello Vieni qua fuori Bello Eh esatto Bravo Mio Ho voluto troppo Tanto la stamina Eh ho voluto troppo Meno merito Tanto la stamina Non è vero Cazzo So close Non è vero Per due volte È stato fortunato lui È vero È stato fortunato Ma ormai la danza Che fai intorno È molto buona No 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 Ma infatti Ho più paura di Sekiro Di lui Lui non mi fa paura Sì 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 Qui è stato molto fortunato Lui non io Perché due volte Lo stavo interruttando E lui è riuscito A prendermi con la Punta dell'hitbox Di merda Eh infatti Anch'io ragazzi La seconda volta Mi ha preso proprio Di hitbox Pazza Che non esiste No madonna Oh ma questi Sono baciati Dalla fortuna Sti ragazzi Che non è possibile Anche questo Ha fatto un dodge Della vita proprio Aspetta Però io intanto Qui posso Ma vaffanculo Le anime posso prenderle Perché me la devo rischiare Tanto qui Non mi ha Prendile No No ho usato la braccia Per sbaglio Vabbè Me la cura Full Eh ho capito Ma non ho una Vabbè Ah lui va via Ah vabbè Bella allora Col cazzo Che lo faccio Bravo E lui va via Col cazzo proprio C'è da fare Sekiro però Eh quello si Eh Sekiro È il primo trial Sekiro è quello Più difficile Che Sekiro Mi milla vita Proviamo senza scudo Cazzo cazzo Non pensavo Facessero weapon art Mio Eccola Eccola che arriva E mannaggia Ste tombe di merda Porco Il demonio No No vai a cagare Vai Vai a cagare Tanto hai prese Le anime Quindi hai controllo No lo so È che mi scoccia Il roll Sulla tomba E stiamo migliorando Anche contro di lui Esattamente Stiamo migliorando Anche contro di lui Quindi ok Si può Andare Arrivederci E grazie Con lui Non sprechiamo Estus Non sprechiamo altro Ma che cazzo Ok L'ho presa a due mani ragazzi Questa è a due mani no? Ah no è una mano sola Come faccio a prenderla a due mani? Non posso È una dual Non posso prenderla a due mani Mi dicono ma prendila a due mani Ma non posso perché Se la prendo a due mani Va in dual e basta Giusto? In teoria se premi Triangolo Premuto Ti prende lo scudo a due mani E infatti Ok Ma vai Intendevano quello probabilmente Eh ma l'avevo a due mani infatti Ma infatti Infatti Non c'è problema Non devo tirare quelle di fuoco però Ok Ah ho rollato alla parte sbagliata Sto dormendo in piedi Ok Mio Devutina Mannaggia Ha fatto l'affondo Pensavo facesse quella roba che Lo fa andare Devo scudare di più Non me la devo sentire così baldanzosa E' bello No Ah Ah Alla fine Mamma mia Poco Poco Secondo me va inserito qualche Perry dentro Eh eh Sono d'accordo Bravo E' il momento Ora che non lo temo più Ora che non è più la live di venerdì Che arrivo dal tizio e per ma muoio Esatto E' arrivato il momento di Provare qualche ferro Esatto Esatto Tanto Tentar non nuoce ora che stiamo Raggiungendo un po' di esperienza aggiuntiva Io però non ce la faccio più a correre contro queste tombe Eh porca di quella miseria Questa cosa è veramente di un fastidio unico P Porca miseria E' la seconda volta che mi succede Basta Nooo Bella lì Peccato Yes Bevutina Eh bravissimo io Sapevo Via Corri 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 Ok perfetto Questa è proprio gratis Sta bevuta Dai 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 Tuo Boh 5 estus Si può fare meglio Gemma affilata Godo Si può fare meglio Si può fare meglio Però prima L'ho quasi fatto Braciato senza estus Quindi Eh 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 No La seggiola di nuovo Dai C'è un oggetto strano a terra C'è una tipa che prega davanti all'altare Ah io qui sfrutto tutto il muro Forza una sega Anche lui Anche lui lo vedo Peccato Facciamo questo combattimento strano così? No vince lui Vince lui? Per ora sto vincendo io Ah ok 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 Allora Ok Try your luck Eh no 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 Ora basta È finita Ok Aia aia Io se prendo un'altra volta ste tombe No gli alveri di merda Mi sono dimenticato Vedi quello è un attacco Ma abbastanza perriabile Quando si tira indietro E carica l'affondo No io ragazzi Cioè L'ha fatta apposta Miyazaki di merda A metterci ste tombe del cazzo Non è vero Non è vero assolutamente In realtà no È verissimo È stato bravissimo lui È di nuovo sai Mamma mia Ah no ho finito l'estus No Il sorso della morte Pensavo Non pensavo di averle finite E qui ho giocato molto peggio contro di lui Ho giocato molto peggio contro di lui Perché prima l'ho portato a niente con una estus Non dovevo fare la roba contro il muro Nel cuore Minchia davvero Guarda questa è veramente La vera challenge Ci sei lì dentro Sì 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 Ci siamo ci siamo Non utilizzo l'attacco L1 in dual A parte perché non ho giocato mai in dual Ragazzi Come avete potuto vedere Dallo scudo alzato E dal perry Però Non mi pareva molto utile L'ultima volta contro di loro Uè fratm L'altra volta ti sei allontanato Rifallo pure stavolta Grazie E ridagli queste frecce di fuoco Finché non le avrò sprecate tutte Non so contento Allora vediamo con lui Di fare una roba Correre Anziché Rollare Cioè così no E poi Vabbè doppio salto Ma veramente Non l'ha mai fatta sta cosa Perché ha deciso Di punirti così Cioè boh Devo bere presto Ancora ancora Spacing Ok perfetto Eh qui ho sbagliato io Qui ho sbagliato io Non si rolla Quell'attacco Non si rolla quell'attacco Qui grazie Qui mi fa un favore 7 Estus Prima ho fatto in 5 Ok Però può anche succedere Che sia il successivo A farti Sprendere meno cure No infatti Infatti assolutamente Oh qui ottimo No Colpa mia Colpa mia di nuovo Colpa mia di nuovo Stavo per buttare via tutto Perfetto Qui mi fa un favore Non è vero Non è vero Perché io becco le tombe In mezzo ai coglioni Tutte le volte Non è Non è l'arena Tutte le volte Becco le tombe Per tornare indietro Va bene Va bene Non vedo Ma Va benissimo Oh scusate Sì sì alla grande Alla grande Vai vai Going race Tombe scassa palle Sì Farlo litigare con l'altro Mica può litigare con l'altro Stanno insieme Eh no Non c'è Sono dello stesso partito Ragazzi Ma perché mi sta seguendo adesso Ma qual è il senso di questa cosa Perché mi segue adesso Boh È più persistente stavolta La stagnazione funziona anche così ragazzi Ma non ti ammolio Una cosa che puoi provare a fare È aspettare qualche secondo Prima di partire in corsa Così la ronda Ok No non è vero Eh no perché ti vede diciamo Mamma che chad che sono Oh È un buon allenamento Tra l'altro Dove va Dove vai che agri gli altri Stai fermo Ok Esatto That's how it's done That's how you do that Non credo proprio Gianni Non credo proprio Gianni Non credo proprio Gianni Uh buono Ok se gioco così contro l'altro Gli spacco la faccia No Perché non sto zitto Ok Dove sto sbevuto Alla fine Perché non devo Perché devo rompere L'auto cazzo Sì no no Mai Mai essere soddisfatti Di ciò che si sta facendo Perché è il momento in cui Ti viene Ti si viene puniti per sempre Che fa Che fa Che fa il ragazzo Che continua a tirare Le frecce sbagliate Oh adesso ragazzi È arrivato quel momento Della live in cui muoio Perché scappo con le tombe dietro Eccolo qui Arrabbiatissimo Uno Due Eccole qui Le volevate tutti Le tombe sono arrivate per noi Adesso bevo Ma faccio proprio doppia si patina Vi faccio così E qui No niente Nooo Ma come Non un bestad No 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 Non lo scudo Non lo scudo Non credimo Oh ora si Staggerino Fammi la tua combo Pazza Sgravata dai Bravissimo No Molto meno bravo adesso Perché pensavo che mi Di poterlo evitare Via Via Mannaggia queste tombe Le odio Le odio Michele Le odio Le odio Mannaggia chi è morto qua Ok ok Ho una estus Ragazzi Ho una estus Ma poveri No no È colpa loro Sì questo è proprio L'immortaci Loro Dai 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 Tutto ma che Per poter fare una Preghierina All'altare No esatto Dopo vado a confessarmi Maestro Esatto Qui Ho peccato io Di presunzione Eh sì Posso ancora prendere Però secondo me Secondo me lì Puoi fargli peri Ce la fai Eh sì Se capisci Quando fa l'attacco Lento Non Perché non mi concentro Oh Cacchio Ora Pensavo avesse finito Pensavo avesse finito Pensavo avesse finito Ragazzi dentro Ho paura che sia ancora peggio Perché è pieno Di merda Non hai bevuto Quelle pazze Eh Ce n'era una eh ragazzi La volevo Tenere Allora Quindi adesso Prima lo faccio venire Verso di me E poi me ne vado Così in teoria Non mi segue Ma mi sta seguendo Lo stesso Il ragazzone Io spero Che non lo faccia Perché prima Mi ha fatto perdere Veramente tanto tempo Ti prego Ti prego Vattene Dipende Sì anche molto esatto Allontanati un po' Non entrare lì E niente ragazzi Ora gli è presa male Che mi deve Ma perché Perché adesso È tutta questione Di quanto cammina Dalla ronda Quando lo superi Nella ronda Diciamo Allora in teoria Posso andarmene Adesso da qui E lui mi segue Ah ma aspetta Sto andando Dalla parte Sbagliata Se adesso Mi faccio seguire fuori E mi faccio seguire Abbastanza E poi scappo Di nuovo all'indietro Lui prende Il limite dell'agro Potrebbe perderlo L'ha già perso In realtà adesso qui Eh infatti Credo Credo l'abbia perso Ah ok Non sta arrivando In realtà lentamente Ma sta arrivando In teoria Non sono programmati Per inseguirmi sempre Poi Ok ora Non mi sta proprio vedendo Allora io in teoria Faccio questo Un'altra freccia di fuoco Perché se no Non sono contento Ok Vieni vieni Ok Adesso me ne vado In teoria adesso Correndo A parte che mi prendo Dei coltelli Nella schiena E va bene Ma sono comunque contento In teoria Correndo veloce Verso di qua No Niente Niente Michele Niente Ha deciso Niente cavolo Eh si probabilmente Questa cosa rompe Tanto il cazzo Ragazzi eh Ve lo dico Beh in questo caso Contro queste creature Pi è pronto Beh Sì Allora fammici provare Un'ultima volta Dai Perché hai superato Tutto il necessario Bello quel precipizio Però cazzo Lì non devo mai Nella vita Cercare il backstab Comunque Eh anche qui L'ho voluto cercare Perché sono stronzo Ma l'ho trovato Ma non devo Non devo Buono Ah Errore mio Errore mio Errore mio Errore mio Posso fare l'ultimo try E poi chiamo P Io ho preparato tutto Ok perché me la sento Puoi farlo Puoi farlo assolutamente È strafattibile in realtà Ci sono arrivato due volte Vicinissimo Allora possiamo fare il tetto Per levarcelo dal cazzo E forse questa sarebbe La cosa più intelligente Punto Vai dal tetto E È bella lì Però Ci siamo riusciti In realtà Correndo e basta Come un pazzo Ci siamo riusciti prima Mhm Cioè lui non mi ha seguito Correndo come un pazzo Però correvo come un pazzo Di qua in realtà Non dritto Vediamo se era questo Il punto Infatti non credo Mi abbia seguito Ovviamente controlliamo Per sicurezza Ma No no È la curva È la curva Hai visto? Sì Ottimo È la curva Ok perfetto Quindi Adesso Perché tre ragazzi Sono difficili Ma La braccia la usiamo Se vinciamo contro il segiro Ragazzi Inutile usarla adesso Infatti fatemela togliere Subito dal Cazzetto Inizio farlocco Top Top No Bravi Oddio Eccolo Eccolo Colpa mia Aspettiamo una fine combo Perché se no Mi fotto Ok Questo è buono No ma che cosa Tozzone Ma che si fa fare I pompini Tipo Via Sono molto spaventato E mi son preso L'ultimo attacco Non devo essere Così spaventato Dalle tombe Ovviamente Via Ok Ok Buono Più metodico Più metodico Dai 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 Mi devo scudare lì Non devo rollare Mi devo scudare Quando lo capirò Lo so Ma non lo faccio poi Ok No Ha preso l'albero Ah ma non ce la faccio in tempo Perché finisco la stamina That's the point Ah ma mi voglio Nella stronza La famosa barra verde Quella che devi livellare L'avevo stommato Vabbè è fatto lui praticamente Dovrebbero mancare Quattro colpi Bello Eh non rompere i coglioni Tu mamma mia Alla dietro Con sto cazzo di soffio Di ghiaccio Ma che palle Ma che palle Sto tiltando malissimo Con quell'albero di merda Che mo' mi ammazza Che tiltone Quell'albero è proprio inutile Ragazzi Lì Serve a niente Non devo essere greedy Glielo potevo tirare un altro colpo Ma poteva essere Fatale Dai Ok Ok mio Zitto 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 e muori Eh niente L'albero Continua a prendermi Sto stronzo Ma ti pare Ma poi con un cazzo di range Di 40 km Eh boh Provo a uscire Puoi che p Entri con te nel luogo Eh te l'ho detto L'ultimo trai contro di lui Da solo Ok Poi si Ok 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 Eh dobbiamo combatterlo Nella chiesa ragazzi Se no qua Se è ciao Sperando che gli alberi Non entrino nella chiesa Cosa possibile Cosa possibile Qui è successo Oh eh Lo targhetti per cortesia Invece di Ok grazie Vabbè Ho cominciato molto bene Dai dai Ok Bella combo Tenta la stamina Bello Bello Non era male In realtà hai fatto bene Lo so Bello Si patì Bravo Non è vero Mai Ok Ora quando mette La spada in verticale Prova A fare un parry Alla carica Che no Adesso Ok ok Oh Ci piace il coraggio Boh che culo Godo Grande Non devo tiltare Mi devo concentrare Esatto Eh vabbè Eccolo Ok 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 Bravo Va bene a caricare La stamina Bravissimo Bella lì Così Come ti avrebbe detto P Attento Eh qui ti ha fregato La stamina Sì Questo è semplice Questo è il livello No Concentrato Ho paura Non devo avere paura Crepa bastardo crepa Ehi Yes 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 Ok Yes 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 che prova Yes che orgoglio Ottimo Aureola della via bianca Ma che minestrone di merda È sto posto Belca Chiesa nera Via bianca Quindi questo è un altare Della via bianca In teoria Perché chi è un Chi prega Ha il miracolo Della via bianca Leggiamolo subito Un miracolo perduto Della via bianca Scaglia un disco bianco Che squarta i nemici Prima di tornare Da chi lo ha lanciato È un boomerang In passato Quando le tracce Lasciate dagli dèi Non erano ancora svanite I miracoli della via bianca Narravano di queste aureole Coloro che bramavano Le aureole perdute Credevano davvero Che queste avrebbero Prima o poi Fatto ritorno Beh Ragazzi Il fatto che questo Sia un altare Mi fa pensare Che allora forse Ci sbagliamo E quell'altare Velca Ma in realtà Quello di Fride È Velca Ma in realtà Nella versione Kaita Perché questo è un miracolo Della via bianca Quindi chi è venuto qui A pregare Aveva dietro una storia Della via bianca Noi sappiamo benissimo Che chi ha dietro Miracoli della via bianca Odia Quelli della Chiesa nera E quindi in teoria Questo è un altare Della via bianca Leggiamo anche L'armatura Da schiavi Bravi Esatto Cappuccio di stoffa Donato ai cavalieri Schiavi Non sono quelli Dell'insediamento Dei non morti Che portano Le croci Sono schiavi E il rosso È legato a quel Meccanismo culturale Ma non sono Cavaliere Hai ragione È vero Hai ragione Quindi questo è speciale Non l'abbiamo mai visto però Vai Il colore rosso È il simbolo Inconfondibile Del loro compito Forse In passato I non morti Forse In passato I non morti Ricoprivano il ruolo Di cavalieri schiavi Carne da macello Per le battaglie Più tremende Col tempo La loro pelle È diventata nera E la loro ossa Orribilmente contorte La follia Li ha consumati Ma il loro compito È rimasto lo stesso Quindi sono i corvi Allora È difficilissimo Collegare questo abito Perché È sfuggente Quando lo vedi Però Ti posso dire Dove l'hai visto Questo abito rosso Questo cappuccio Provo a mettermelo addosso Ok Sembra un po' Esatto Quello dei Ah ah Aspetta No in realtà no Sembrava un po' La testa dei Guardiani dell'abisso Ma non può essere No Ma Il ah ah Lo farei comunque Perché questo cappuccio Lo aveva L'uomo che ti ha portato qui L'uomo Hai ragione Sì Era quello prostrato Hai ragione Hai ragionissima L'uomo prostrato Quindi era un cavaliere Schiavo A quanto pare Schiavo La follia l'ha consumata Ma il loro compito È rimasto lo stesso Quello di attirare qui Una cenere Che facesse prendere fuoco Al dipinto Immagino io No Armatura di pregevole Fattura donata ai cavalieri Schiavi Indossarla è un grande onore In passato i non morti Ricoprivano il ruolo Di cavalieri schiavi Carne da macello Per le battaglie più tremende Niente Sempre la stessa cosa Stessa cosa Stessa cosa Ok Dicevo Ti torna quello che Stavo insomma Raccontando adesso Se lui è della via bianca E stava pregando qua Guarda è proprio in preghiera Vuol dire che questo altare È compatibile Con la via bianca Assolutamente Sì sì Ha senso E quindi mi sbaglio Qui non c'è culto di Velka La statua Che abbiamo visto Alle spalle di Fride È di Kaifa Oppure È qualcuno Di perduto Che Nonostante avesse Il culto della via bianca Il miracolo Stava avvicinandosi A quello che era L'universo Esatto Sì sì Certo È vero Giusto Anche così ha senso Però Quello No no vai vai No Quello che ti direi Di fare adesso Di evocarti No 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 Adesso non c'è bisogno Credimi Ok O meglio Non è più il momento In caso Poi in futuro Visto il tuo successo P potrà apparire In alcune situazioni Ma non più questa E quello che ti dico di fare è Ripristinati Lestus Sì tanto qui Non devo più entrare No Però Uno dovrai ucciderlo Right Perché devi comunque andare Nell'altro edificio Ah È quello Devi ucciderlo Mi sono ripristinato Maestro Quello Quello devi ucciderlo Sì Mi sono ripristinato Oppure Sì puoi provare A skipparlo E andando a destra Non ti aggrerà Ma c'era un oggetto L'ho dimenticato C'era un oggetto sul tetto Ah sul tetto Ma non ti preoccupare Adesso non dovrai più Entrare dentro Ah beh ma posso calare Da sopra in teoria Esatto Ormai da sopra Che mi rompe le palle Poi esci Recupera le anime Fai Skippa tutto Da qui in teoria Faccio lo skipperino Ripperino E lui non mi insegue qua Hai superato le scale Ok Eh non lo so È per skippare Ah ok Sì era per evitare Adesso salgo Giusto? Sì 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 Per prendere l'oggetto Sì Ecco ecco Perfetto Mi devo buttare Tipo da uno dei buchi E fare il Demon's Souls Fare un po' di Demon's Souls Demon's Souls Demon's Souls Demon's Souls Raga se perdo le anime Qui dentro È un macello Ma infatti Vai sulla Non cadere in basso Prendi l'oggetto E ossa Eh no no Ma è non cadere Aspetta no Qui proprio non posso Quindi devo cadere Esatto No io ho paura Di sbagliare il roll Capito? Ma non devo rollare Non rollare Esatto Cammino e basta Chiaro Come poteva andare Se non così? Risali sulle scale Magari ti inseguono fuori E non ci sono più sotto Mamma mia No Vabbè Dai È un buon posto Dove morire Sì no no Esatto Esatto L'importante era Non morire lì dentro A maiale forse Eppure ho camminato ragazzi Quindi Dicono che siano rimaste dentro Secondo loro Vabbè No dentro no Nel caso se fossero rimaste dentro No dentro no Dentro no Non posso Non posso Non posso No 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 Oh Non scherziamo Non scherziamo ragazzi Ok Non fucking scherziamo Ok bravo Nice Ci sono altri buchi Dicono Ok vediamo Ah anche questo In teoria Però questo fa schifo Sì ma Quello è il migliore Diciamo ecco Questo non è male però È sempre lo stesso No questo è un altro Eh ma ragazzi Ma come cazzo si fa Porca miseria Camminando Eh ma stavo camminando Eh Hai corso secondo me Sì va bene No in realtà Hai fatto bene Semplicemente È stato un po' Un po' Antipatico Ecco Vabbè Ora non ci sono più Ok Bisogna camminare Proprio piano piano Ecco Esatto Vabbè easy In realtà È andata bene Ah vabbè Che è tanta roba Ragazzi Abbiamo preso L'anima delle palle Non male Madonna se te lo fa Un plunging Mica Mica le avrò perse Di sopra Adesso Potrebbero essere sopra Potrebbero essere sopra Spero per te Che siano sopra No io spero sotto Adesso in realtà Ah ok Faccio toccata e fuga Va bene E in teoria Non ho più niente da fare Lì dentro giusto Lì dentro no Ora puoi entrare Nell'edificio adiacente Ok Eh no ragazzi Andava fatto Il plunging Andava fatto A costo di perdere 38k anime Che cazzo faccio qui Mamma mia Tanto per Che ansietta Tanto perdiamo aggro Poi vediamo Sì lì è sempre È sempre ansia Pazza proprio E lui torna In casa base La controlliamo Se sto dentro Secondo me sto dentro Se sto sopra Si ride Sai che sto sopra Amico mio Sai La mia sensazione Guardale 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 Viste dove sono Vabbè però Ho capito come fare Quindi easy Il corvo mica Mi combatterà lì sopra Sicuro mi combatte lì sopra E vabbè Ragazzi Non risica Non effetto Erosico Ok Penso mi abbia grato In realtà Sì sì Bella lì Vabbè easy Ora cado Mamma mia Ok Via Non curare Qui dietro Non se non Con qualcuno Ti gara Dietro Ok Fida Del maestro Io mi fido Ciacamente Del maestro Come sempre Ti aggro ancora Sei libero No Sì Ora sì forse Sta tornando indietro Sì Sono libero e qui c'è un alberello Ma prima Prendo il giovane ramo bianco Poi Poi Mando a fare in culo Questo alberello Una moneta Arrogenita Ora il breath of the wild Lo lasciamo qua Ok Finalmente Ma sì sì Si vai pure Che bel posto Statue di Donne credo Tipo ancelle E Chi è Non è un Dark Wraith Ah il cavaliere Il cavaliere Minchia che t'ha fatto Di mossa Fighissima No Era il tacco in salto Non dovevo Esatto Bravo lui Cercando il Perry Ma Non lo troverò facilmente Era buona idea il Perry Ma questo è Tosto Questo è veramente tosto A due mani Non posso perriare Corretto? Esatto Bello era Quindi lui serve Per non farmi avvicinare E Damma Fede del resto È la strega Esatto Ti aveva invitato Ad andare via Non l'hai fatto Stai raggiungendo Delle risposte Che non devi avvicinare Sì sì Che non devo comprendere Quindi vai via Esatto Bellissima la voce È bellissima Ma anche la spada nera Infuocata Cioè Il fuoco nero Che si accende Come la bossa shonen Ho visto la spada È una lancia Non ti permettere Bastardo No No Perché stavolta Mi sta aggrando Non sei andato Non sei andato a destra Vattene via Vattene via Ok è andato via Ok Sembra un po' l'arma del golem Ma che cazzo è rimasto qua? Ma io non li capisco Sti mob della minchia Però eh Eh no Non li perdo No 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 Col cazzo proprio Col cazzo proprio Sì si ammazzate Fate quello che volete Ah no ok Non mi segui qua Credo Ah vabbè c'è il Scudo I segreti svelati Tale laboria Di cercare la verità Ah ok Non è una spada Abbastanza pesante Questa puoi variarla Anche a due mani Ok Ok non è ultra È vero Non è ultra Great Sword È vero è vero ragazzi No il perri Non è una buona Devo Lui comunque È È oscurissimo Sì sì Ha persino la fiamma nera Sulla spada Mamma mia È firenziano lui Di brutto Ci ho provato ragazzi Scusatemi Un po' Se lo fai prima Forse sarà Il tempismo Ovviamente ce l'hai diverso Perché tu hai quello delle catane E quello delle No Continuamente penso Di poterglielo fare Invece niente Ok e ora senza Perry Si gioca decentemente Dai Quella ha la mano oscura Dai Darkwraith Eh l'ho vista sì Staggeropoli Bravo Madonna che Bestia Madonna che bella lotta Sì è fantastico lui Occhio che non hai equipaggiato la braccia Lo so lo so Eh vabbè volevo Eh sì appunto Non è facile farlo in combat No è In realtà L'avevo già visto Però poi ho pensato Ok ma magari ho le Estus Niente Ok questo senza Perry Si fa easy Sì questo infatti Quello che succede Non devo provare il Perry È troppo difficile Ottenere Cioè sconfiggerlo Potrebbe essere Un ottimo finale E le anime mi stanno disturbando Devo tornare indietro È una buona idea Usarle sai Un 42k Se lo meriti Le usi E sei a cuor leggero Lasciami stare Porca puttana Eh son passato Mamma mia Sai come si usano le anime Ammazzandolo Non devo provare i Perry No vi giuro ragazzi Che non Perry un cazzo adesso Ve lo giuro Ve lo giuro Voglio vincere Oh come man Eita Bella Che cazzo fai Ma vaffanculo Capito Ok Ok Ho capito Ovviamente non sono infinite Ma il furbone Va backstabato Quando fa quella me È un vero scontro Fino alla fine Non morto Contro non morto Al massimo Della potenzialità Sì ma tu vieni a dire A Sidonia Che non si possono Vedere i segreti A Sidonia Ok Gli hai detto le parole Sbagliate Gli hai detto Che dietro di te C'è un segreto C'è della speculazio Io me la prenderò Sul tuo cadavere No Stavamo per fare Uno scambio di colpi Però sto Sto sprecando Estus Basta Ah Que culo Basta Sto sprecando Estus Ho detto È un segreto No 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 Mi sto deconcentrando Perché si è curato Bravo Mi ha fatto Mi ha fatto tiltare Bravo Niente Ho perso il ritmo Sono bevuto 7 Estus in 30 secondi ho perso il ritmo ricorda comunque che nel thumbnail la sua spada è dinanzi a P quindi in caso puoi chiamarlo è la sua spada? eh sì ah quindi era oscurità quella esatto era la lama nera non avevo colto perché non è oscurità in quel caso è proprio la lama è di colore nero fisicamente mio vaffanculo bravo ora sicura no non ho preso il backstab ah peccato non eri che bello scontro mamma mia mi sembra di essere in Devil May Cry 3 eh sì è praticamente uno scontro con un NPC che però non è un NPC lo sapevo no non si può interrappare madonna meno male che non mi ha preso è qui proprio coglione coglione fino in fondo io eh vabbè t'avrei ammazzato 40 volte se tu non ti curassi però anche io posso curarmi quindi fair dai ora sono senza cure gioco meglio va bene qui è arrivato il momento qui rendiamo la tambra il canonica lui è assolutamente lui è lui è qualcosa che serve a dimostrarti che in questo luogo che viene definito per i più potenti c'è qualcuno che equivale a un giocatore che vuole impedirti di passare con tutto ciò che può offrire a se stesso cioè lui è un vero e proprio mid boss realistico diciamo è bellissimo allora adesso metto la password sono qui se l'SSD vuole ovviamente grazie e preparo sì allora ma viene Sambro mi dice in chat ma viene definito un NPC per lui nel senso sei sicuro che non posso interagire Sambro cos'è un NPC? sai che nei Souls quando si evoca vicenda gli NPC vengono visti come esseri invisibili e intangibili ah lo vedo come Phantom e quindi non puoi non puoi colpirlo ah puoi interagire sono quasi sicuro vabbè allora proviamo esatto al massimo stai ferendo esatto esatto tanto non gli aumentiamo gli HP allora esatto noi aumentiamo gli HP giusto? sì sì può ah ok ok allora evidentemente forse era una vecchia cotta della pace io nel multiplayer sapete che non ho quel tipo di expertise ma allora per mettere la password ah solo quelli che di base non sono ostili ah ecco appunto lui è abbastanza ostile beh ma qualche puttana e ok allora viene pure dove sei? ah sì ok ma io non mi posso braciare ragazzi ho finito le braci puoi comprarne una da l'ancella forse dai penso proprio di sì dai 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 intanto allora dico una cosa alla chat dovrebbe avercele sì ah ne ha sempre sei ok a posto vado vado a comprare tutto le braciole ti 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 ok ok le prendo tutte bella lì ragazzi io non non so se sto disturbando Michele di là probabilmente no no sono qui sono qui ok ok mi permetto di difendere di difendere Michele perché leggo in chat perplessità direi che dobbiamo dare atto a Michele che ci ha guidati bene per due Dark Souls quindi se Michele ritiene giusto che io possa provare a affrontare questo DLC e mi da la scelta se farlo o meno vuol dire che farlo non romperà il resto del gioco perché Michele sa quello che fa soprattutto vi prego Sido l'ha fatto da solo fino ad ora ragazzi no ma non è quello non si lamentavano di quello no figuriamoci sto facendo un contenuto endgame a livello 40 non è quello semplicemente ormai l'abbiamo fatto abbiamo fatto il DLC abbiamo rovinato il resto della run ma il fatto è che non è davvero un contenuto endgame è un contenuto di difficoltà endgame ma non è un contenuto endgame ragazzi non ci sono i pezzi di titanite dietro gli angoli ci sono i pezzi i frammenti grandi non è un NPC nascosto in un angolo dietro un muro invisibile come il grande vuoto è nel main path del gioco e ti parla lui ti auto introduce no ma non solo ma ragazzi chiudo la discussione prima che nasca se fosse la blind run fatta da Cydonia senza di Michele avrei preso la stessa scelta cioè quindi anzi l'unica cosa che Michele poteva dirmi è influenzando la mia blind run non lo fare non lo fare non andare poi non è detto che possa riuscire a finirlo ma è arrivato fino a qui da solo appena ha giocato di GDR ha superato il muro che l'aveva bloccato e adesso contro questo visto che ragazzi qui trial and error a un certo punto nell'angolo il buon ragazzone lo mette e quello crepa si può fare un momento di canon e roleplay di storia anche da Thumbnail contro questo singolo avversario e poi sta a lui di nuovo da solo ovviamente ma è inutile che pensiate cioè se mai criticate Dark Souls 3 volete criticare qualcosa criticate Dark Souls 3 ma il DLC è qui accessibile a tutti e non è un DLC cioè nella Fireface Edition nelle Game of the Edition non si chiamano più DLC ok sono contenuti integrati nel gioco non è un extra fa parte della run normale comunque chiedo scusa non volevo dire endgame o meglio ho detto endgame sbagliando di difficoltà endgame no ma è quello che ho detto io nel senso il gioco ti avvisa ma ti avvisa solo perché vuole evitare frustrazione a un giocatore che non lo capisce che pensa che il gioco sia brutto esatto e poi sarà Michele a dirmi non livellare io non sto usando le anime ragazzi siamo a 40k anime ma non sta livellando tanto ragazzi ma vi ricordate quanto livellava sto ragazzo con le vostre invasioni nelle altre run ah vabbè e dai è vero è vero e dai ha le armi più 2 Belin tranquilli più 5 più 2 adesso ha avuto un potenziamento grazie al fatto che è arrivato a tot percentuale del DLC da solo con qualche consiglio ma ragazzi ricordatevi questo la run che avete voi in testa non è quella che il gioco prevede se voi immaginate io il DLC non l'ho avuto non l'ho avuto queste sfide ma non l'ho avuto neanche questi vantaggi questo è un gioco diverso dalla 1.0 non è quello sono proprio due cose diverse non dipende da voi ma non posso io allora forse la chat risa io non lo sa io ho stato una cosa di questo DLC ok non la permetterò mai gli è vietato ok e nel caso si avvicini a farla gli dico tu qua non lo fai e quello si quello si che secondo me è un problema di Dark Souls 3 a livello specialmente narrativo e non glielo voglio far fare ma basta quella è la mia scelta di non esagerare lì sì che si parlerebbe di endgame ma ne riparleremo a tempo vedi non preoccuparvi easy a proposito io qui eh qui dobbiamo menarlo però questo adesso ammazziamo oh ma mamma mia la char attenzione madonna lo stiamo tritando oh ok qui mi aveva quasi fregato a causa del che penso io non ti preoccupare è venuto da me a prendersi due carezzine il ragazzo andiamo 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 si veramente bullizzato il ragazzo rido immagina lamentarti di ciaddare attraverso un'area di difficoltà in un gdr ma infatti ragazzi per me non ha senso cioè è una figata aver fatto questa cosa cioè non non c'è se lo avessi che riato io se ne poteva fare no esatto cioè se avessimo fatto oh what oh questo è un pg ok eh gli vogliamo fare il culo amico mio sì sì che favo rea eh carina idea buona idea rea in effetti era una buona idea ora come beve è giusto è giusto due contro uno cazzo lo stavo per colpire con la combo finale voglio vedere quanto quest'arma pvp è in grado no no aspetta no ah scusa scusa stavo tentando di capire quello che ho fatto si chiama te lo spiego roll catch praticamente una volta che hai abbastanza esperienza si stavi facendo attacco in corsa e boom attacco in corsa e boom non proprio ok stavo facendo un attacco non spammato affinché gli iframe lagganti finissero ah ok quindi lei rolla io aspetto mezzo secondo attacco il roll viene colpito eccolo qua eccolo qua non c'è segreto che non dobbiamo scoprire qui assolutamente ehi p farò una cammina p p p fatti indietro fammi cominciare a me vaccala prendila cos'è non gli permetteremo di curarsi no questo no lo tengo d'occhio ehi 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 dove va vieni qua con me devi lottare e sembra quasi laggare non credo proprio io questo faccio in questo in questa fight l'unica cosa che faccio davvero non credo proprio è dirgli di fare questo è ciò per cui sono qui non oltre no 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 non credo proprio morirai e invece no si è curato il bastardo ok e allora combo no e quindi si era con lei chiave del meccanismo e l'amadonice mi inchiappi elfride quindi non si chiama semplicemente fride si chiama elfride il diminutivo l'amadonice e chiave del meccanismo pime lo hai rubato proprio elfride la più anziana delle sorelle a capo della chiesa nera fece dono di questa spada al proprio cavaliere fermi 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 allora la mia prima supposizione era corretta loro sono della chiesa nera si trattava però di un dono da dio per il cavaliere accettarla significa abbandonare per sempre il proprio compito quale compito? si trattava di un dono da dio aspetta fermi elfride allora non è fride è la signora di cui parlano erano sorelle? dico una cosa la chat un secondo è molto importante non preoccuparti tu prosegui libero ok elfride la più anziana delle sorelle a capo della chiesa nera fece dono di questa spada fece dono di questa spada al proprio cavaliere e ok ha fatto dono al proprio cavaliere fin qui mi torna dopodiché si trattava di un dono da dio e quindi non sta più con lei cosa? no stai stai speculando su cose molto delicate di un titolo che ti mette interpretazioni a inganno spesso e volentieri ho detto anche questo alla chat ok ok e quindi si trattava di un dono da dio per il cavaliere accettarla significò abbandonare per sempre il proprio compito fiamma nera quindi elfride era della chiesa nera mentre fride potrebbe essere della via bianca e quindi per questo decide di non distruggere la fiamma perché è della via bianca quindi la idolatra non possiamo sprecare neanche un falò no? qui c'è ancora non possiamo bruciare questo mondo perché in questo mondo si è espansa la fiamma abilità fiammata di elfride avvolgi la lama con una fiamma nera emanazione del fuoco oscuro che brucia nel petto di lei quindi lei è oscura lei è molto oscura lei è tanto oscura non posso prendere in considerazione Nascandra Boys giusto? no le Nascandra Girls ok però mi ha fatto piacere che tu ci hai pensato ragazzi via bianca non lei l'altra l'altra frida frida ragazzi parlo italiano non lei non lei non lei via bianca no è naturale chiesa nera non è via bianca sto dicendo l'altra sto dicendo frida cioè quella che vediamo all'inizio di Ariandel invece potrebbe essere effettivamente della via bianca qui siamo dinanzi a segreti il cavaliere abbandona lui non voleva raggiungessimo no il cavaliere abbandona il proprio compito di bruciare a questo punto credo con la fiamma nera no? qualcosa non torna qualcosa non torna ragazzi qualcosa non torna esatto di questo sicuramente guarda tutto quello che non torna te lo lascio non tornare stasera perché perché ascoltami bene no? la mia ricostruzione funziona ma si ferma lei che mi dona un anello parlandomi di Iuria quindi no il frida è frida e sono la stessa persona esattamente e però come fai se non dò a questo punto se grazie probabilmente a caos battute ed echi riesci ad arrivare a questa soluzione sì è un po' caotico è un po' specialmente per speculatori innaturale arrivarci immediatamente è stato divertente perché io in blind ho detto questo ai ragazzi prima in blind ho fatto lo stesso errore ho pensato che frida ed elfrida fossero due entità diverse non lo so ah ecco sono la stessa per me è stata la mia prima intuizione e poi dopo ho pensato no però aspetta lei esatto non vuole bruciare cioè perdonami lei è in combutta con il cavaliere con sir vinheim come si chiama non vinheim è wilhelm è in combutta con lui lui ha abbandonato il suo vecchio compito ed è un dono da dio ma dio è un cazzo solo uno accanto all'altro praticamente lei prende una nuova identità è quando entra nel dipinto e cambia e credo che cambia anche cioè lei diventa una strega fride è la sua identità da strega come kaita e l'identità da non strega di velka fondamentalmente giusto quello che accade qui si guarda ti spiego e quindi la mia signora e fride sono la stessa e la strega sono la stessa persona lei prima voleva bruciare poi ha cambiato idea facendo cambiare idea anche al padre chiunque sia questo padre questo te lo lascio in sospeso ok questo te lo lascio in sospeso non ti dico di sì però il punto è questo adesso senza andare nel dettaglio che sicuramente arriverà in futuro è successo qualcosa e il frida era la sorella di yuria era una dove è uscita fuori sta cosa eh era la sorella di yuria la questione delle sorelle a capo della chiesa nera però non sapevamo che yuria fosse a capo della chiesa nera o no o no adesso lo sai allora non mi pare mi pare di no poi magari mi eh vabbè now you know allora va bene ok comunque sì 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 yuria ed elfrida sono sorelle ok e hanno lo stesso o meglio avevano lo stesso grado all'interno della chiesa nera cioè fondatrici quindi qualcosa però è successo affinché elfrida non sia e non più a loro fianco da chissà quanto tempo lei si trova in questo dipinto e come ha intuito dopo un po' di eh confusione data da questa densità di informazioni e soprattutto interpretazioni di signora strega protettrice piromane dei mondi lei prende un'identità diversa facendosi chiamare Frida Dama però Frida esatto però mi fermo qui perché è importante non andare oltre perché a questo punto esatto già se già se già sono andato un po' troppo oltre una linea gialla no no certo a dirti di più ti farei raggiungere i segreti che lui non vuole però caso il dipinto è proprio rappresenta una fiamma speculare non è la fiamma nera la fiamma tradizionale che brucia quindi sembra proprio che lei abbia cambiato abbia cambiato idea che volesse prima bruciare esatto sotto questo punto di vista avrai delle belle sorprese proprio in nome della nostra collaborazione di Run diciamo ti potrò accompagnare del fare il finale della live è veramente qui dietro viene viene ah si si legge la chiave mi dicono che però forse invece lo sapevo questa cosa che forse era nel tomo il ruolo di Yuriam forse non mi ricordo io ragazzi per fortuna non è un problema in caso mi sentirei vabbè non è un'informazione che cambia qualcosa in maniera macroscopica è un punto un chiodo una puntina rossa su una mappa che ti aiuta un po' ah giusto c'era anche Liliane bravi bravi certo c'era la terza che era Liliane sai ora esatto sai tutte e tre quindi sono tutte e tre le sorelle praticamente Liliane Frida e Yuria ok questa chiave attiva il macchinario che permette di accedere all'attico dell'archivio ai confini del villaggio dei corvidi ok dopo aver guidato la donna dai capelli bianchi all'attico della biblioteca ovvero Frida Sir Wilhelm fece tesoro di questa chiave difendendola con la propria vita e ha abbandonato il suo vecchio compito qual era il suo vecchio compito? starle accanto questo lui l'ha lasciata lì sopra e per difenderla non le sta più accanto in teoria bravissimo questo l'hai preso al volo bravissimo eh Frida ha i capelli bianchi in realtà no non l'abbiamo visto chi ha i capelli bianchi cioè allora Priscilla ha i capelli bianchi se non mi ricordo male Priscilla ha i capelli bianchi però non abbiamo visto i capelli di lei intuisco che la chiamata mia signora intuisco che lei abbia i capelli bianchi visto che aveva il capo coperto quindi credo che l'abbandono comunque del compito fosse no non lo so di che colore i capelli ragazzi lo sto dicendo no non può saperlo ragazzi ma Frida è nella chiesa non nell'attico beh oddio è vero anche questo però cioè perdonatemi ora comincio a fare confusione allora e il Frida fece dono di questa spada al proprio cavaliere si trattava però di un dono d'addio per il cavaliere accettarla significò abbandonare per sempre il proprio compito e allora no potrebbe essere effettivamente potrebbe non essere Frida quella lì sopra potrebbe ma no Priscilla davvero adesso ancora lì ragazzi tolgo un attimo la chat e vi chiedo scusa vi chiedo scusa ma non non voglio farmi rovinare questo momento con aiuti e persone che mi e Asani ti chiedo scusa perdonami abbiamo pochissimo tempo esatto purtroppo se possiamo fare un'altra volta ti chiedo scusa davvero se metti il segno rosso ecco ti prendiamo la prossima ma non abbiamo troppo tempo perdonatemi ho tolgo la chat non vi voglio male ma vedo suggerimenti per grazie mille a Gianni vedo suggerimenti a capire cose comprendere cose e tolgono senso alla speculazio andiamo andiamo in solo emoticon andiamo in solo emoticon così non mi perdono niente andiamo in solo emoticon mi dispiace ragazzi vi chiedo scusa però vedevo davvero troppo allora stai attento guarda lì che e ci sono ci sono io ragazze non preoccupatevi per questo allora vi voglio bene ma la fiamma nera brucia nel petto di lei di lei Fride in teoria chiamata di Elfride in Infride brucia il la fiamma nera le tre sorelle potremmo dire sono un po' tutte e tre emanazione della Velka originale e proteggono la figlia di Velka in teoria Priscilla che è ancora viva a quanto pare però allora diciamo che fin qui stai facendo un ragionamento molto corretto però non sembra in alcun modo Yuria interessata al mondo di Pinto hai ragione per un cazzo proprio forse solo lei eh capisci esatto adesso ho trovato la soluzione però la mia domanda perdonami che è perché Fride non vuole bruciare il dipinto perché c'è la donna dai capelli bianchi dentro vuole mantenere qualcosa vuole mantenere lei e forse la donna dai capelli bianchi in realtà è chiusa dentro quella stanza cioè forse la donna dai capelli bianchi invece voleva morire qual è il segreto del Seeker of Truth no? che non voleva Wilhelm tu scoprissi il segreto è che si trova al piano di sopra e direi la donna dai capelli bianchi è il segreto lui è un regalo d'addio perché non possono mai più stare insieme Fride e il cavaliere perché il cavaliere deve star qui a proteggere l'accesso e quindi dono d'addio non possiamo più loro magari avevano un rapporto Fride e il cavaliere un po' come eh ricordarsi il nome quelle di Demon's Souls la monaca di Demon's Souls e il cavaliere che Velstad si chiamava ah si si no no quello è Garvinland Garvinland no Velstad è quello di quello di esatto esatto però si esatto loro due cioè capito loro si sono separati perché lei gli ha detto devi proteggere la tipa dai capelli bianchi quindi stai qua ok astrea ecco si ok tira la leva tiro la leva mi chiedono dalla regia maestro di sì stare molto attento a cosa ma chi ma ora c'è tutta una prossima area quindi ma chi è questa è la bimba dei capelli bianchi non è Priscilla forse una figlia è iritiliana credo ma allora Sullivan è uno di loro gli iritiliani non sono figli di Gwyn sono figli di Priscilla la valle boreale è semplicemente un'estensione una colonizzazione da parte della dinastia di Priscilla di un pezzo di mondo di Lothric mentre lei è rimasta qui dentro gli iritiliani sono figli di Priscilla Priscilla ha fatto partire una dinastia mezzi draghi mezzi strega hai subito osservandola compreso grazie alle nostre discussioni sulla fecondità delle creature in Dark Souls 1 e sulle dinastie che ciò che ti trovi davanti è molto probabilmente figlia di Priscilla eh o figlia o nipote non lo so però capito esatto è imparentata con e addirittura credo di poter tracciare seppur nella mia fantasia proviamo a togliere ragazzi la emoticon only proviamo a toglierla perché mi dispiace non condividere con voi questo momento però davvero vi chiedo in ginocchio non mi togliete il piacere di arrivarci da solo le cose perché in questo momento sono davvero molto emozionato con la scossetta sulla spina dorsale capendo queste cose sì siamo questo significa che probabilmente Sullivan è un villain che vuole prendersi il mondo in quanto sente di appartenere a una dinastia superiore potrebbe essere una delle possibili sue derive psicologiche cioè lui è abituato che i figli di Priscilla devono vivere qui segregati dentro un dipinto perché sono stati degli abomini perché lei stessa si è esiliata in primis Priscilla sua madre o sua nonna e invece Sullivan dice oh aspeco il cazzo io vado fuori divento pure papa e soppianta Lloyd perché Sullivan è divino per davvero è letteralmente figlio di divinità è letteralmente figlio di divinità ha questo panno ha un cappello e credo si stia disegnando credo stia sì sta disegnando sul tavolo sì la controllo ancora no lei non mi si fila di strisce sì sì perdonatemi ovviamente ho fatto un discorso a metà nella mia testa aveva senso ma non ho esplicitato lei è divina davvero perché ha del del drago dentro di lei ok quindi anche Sullivan si è imparentato ha un pezzo di drago dentro di lui ok e letteralmente un quarto di drago dovrebbe esserci e io interpreto come realmente divini solamente i draghi perché fanno parte di un mondo eterno che preesisteva a tutto il resto abbiamo detto più volte quanto Gwyn fosse a sua volta un dio autoproclamato e quindi ecco perché un quarto di Sith perdonatemi sto facendo confusione con i nomi un quarto di Sith un quarto di drago e quindi ecco perché parlavo di essere divino a differenza di Lloyd che dentro di sé non ha alcun germe del drago alcun gene del drago non riesco a vederla meglio di così no ma non sei solo occhi rossi zio Gael zio Gael ma hai sentito nominare sì quindi eri tu che dipengevi puoi usare il binoculo mentre parti preziosissimo cosa ha al collo no forse semplicemente dove è legata la sì non capisco se gli occhi rossi o no la prossima volta ti mostrerò molto bene il suo modello è questo il finale sì porca miseria mi si fotterà il cervello per venerdì esatto non si può zoomare no ci sto provando no purtroppo no ci sono dei limiti sì però guarda un po' quanto si è fatto e sono rimasto completamente sconvolto dall'aver potuto canonizzare fino a questo punto anche la thumbnail fantastico ma per me per me ci stava lo scontro contro di lui oh se non fosse stato così non ci sarei mai stato cioè non ci sarei venuto indubbiamente ragazzi farlo insieme mi ha tolto quello scontro non è stato difficile per niente laddove era difficile però non mi sento derubato di una fight perché è stato difficile tutto il resto tra mille virgolette inutilmente perché l'ho affrontato adesso quando non era il momento e quindi sento di aver dato dimostrazione di meritare di essere qui e trattandosi di un NPC aveva comunque un combattimento che si legava più al al pvp è vero a fare le cure che altro ragazzi se fosse una blind run da solo la farei da solo e quindi va da sé che l'intervento di Michele secondo me ci stava oltre al fatto che comunque di nuovo tornando a parlare di game design chi ha fatto le blind run da solo e magari non ha il nostro carattere evocava la qualunque si faceva aiutare ragazzi ci sono i segni bianchi a terra non hanno le password delle persone normali di solito è vero oppure giocano con un amico è vero comunque lei non può essere scusami rubo qualche minuto in più anche perché ragazzi poi dovrò decidere io che morte far morire della mia live di Deltarune per il casino che è successo col video quindi intanto vado lungo poi si vede quello che c'è da dire riguardo questo posto è che quindi la stirpe di Priscilla che è scappata dentro il dipinto evidentemente credo dipinto da qualcun altro ma a questo punto mi viene il dubbio continua a dipingere ma non è possibile che Priscilla si sia dipinta il dipinto da solo da sola no attenzione ti ricordo qui allora il finale è una mia correzione importante uno dei dialoghi più segreti di Dark Souls che ti feci ascoltare è quando Priscilla ti sconfigge e ti dice ma come non capisci perché Ariamis ha dipinto questo mondo lo nomina Ariamis? si lo nomina di nome lo chiama Ariamis io questo non me lo ricordavo hai fatto benissimo lo chiama lo chiama proprio vocalmente doppiato e allora Ariandel è un parente o una parente o è lei e si autodipinta il dipinto però non lo so è un po' strano mondo dipinto di Ariandel a meno che addirittura ancora adesso si intenda mondo dipinto di Ariandel stavolta inteso come letterale cioè è suo lo ha ereditato lei ma è sempre il mondo dipinto da Ariamis di Ariandel potrebbe anche essere così però la cosa più sensata è che adesso sia Ariandel a aver dipinto questo questo luogo e qui abbiamo decisamente un argomento da scoprire per la prossima volta lei vuole che io dia fuoco a questo posto però almeno così sembra dice bene posso tornare a dipingere come ho promesso a zio Gael che quindi dovrebbe essere il fratello di Priscilla o del padre del marito di Priscilla che non sappiamo assolutamente chi sia in teoria no non lo sappiamo no cioè c'erano se non mi ricordo male supposizioni che Gwyn ci avesse fatto il sexo con Priscilla avendo o mi ricordo male sì 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 però fermiamoci per ora questa ciccia è decisamente next time fidati di me va bene questa è proprio troppo cicciosa va bene è molto da capire diciamo sì oppure è vero potrebbe anche essere uno zio affettivo avete ragione tipo zio Gianni perché mi ha adottato quindi è vero potrebbe anche essere un cavaliere che le faceva la guardia Priscilla Priscilla ha avuto dei figli con chi? con Firenze? con chi li ha fatti sti figli? cosa sta succedendo? no no niente c'è stato un invasore ma stai bene? è scappato quindi rimane dove sta vogliamo fare quest'ultima kill prima di salutarci? io ci sono mi dicono in chat che probabilmente è Sabaku aver messo incinta Priscilla anche io credo che sia così ma proprio non Sabaku II proprio Michele Sabaku oddio ma ci sono i mob non me lo ricordavo 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 vabbè fai tutto tu li credo e spero no non muo arrivo a darti una mano semplicemente mi sono un po' caught off guard eh siamo completamente tra l'altro con gli HP ecco appunto no però io non posso morire qui dopo tutto quello che ho fatto perché Gianni vuole invadere la fine live ma no torna su vicino al falò e lascia lascia l'invasore dov'è tranquillo non preoccuparti vai vai va benissimo non credo che abbia il seme del gigante lui adesso non gli abbiano donato eh infatti non l'ha mai raccolto no devo trovare un falò per tornare indietro ma oh mio dio no vabbè guarda fai una cosa esci 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 ti guido io esci eh fidati esci qua a sinistra qua a sinistra ok qui si vai a destra 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 no 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 l'altra parte lì scendi lì scendi si a destra ah fantastico ok ok accendilo 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 fatto a posto bella ok a posto stupendo adesso possiamo combattere adesso potete combattere posso tornare poi indietro si ah si ormai hai deciso il falò fantastico puoi godertela eh no eh però Gianni mi vuole far esplorare zone nuove allora eh threadline capiamoci eh o vieni qui giochiamo o io non posso rimanere in live perché tu stai invadendo quindi si ecco diventato invisibile si 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 è un'interessante abilità no 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 si che è uno di noi ragazzi ha invaso già tante volte lui non questa volta eh non questa volta però no no non questa volta si si no era un fisso per questo l'ho attaccato perché lo conosco c'è il roll che mi fa male ma infatti nel rispetto di a Gianni sarebbe dovuto andare via ma è evidente che non lo voglia fare io non posso spegnere il gioco finché è qui beh c'è c'è un burrone si sta per meritare un ban threadline 23 di quello che è proprio per sempre ti ho detto di non star lì no non lo prendo perché se si attiva un evento è un casino pensa che l'or siamo arrivati a dire nel rispetto di a Gianni è fantastico ah ma Gianni gli abbiamo detto di non andare oltre non è andato oltre esatto ma tipo delle estus che lo full curano si è però sono limitate quelle degli invasori quindi ah ok allora bello tra poco in realtà questa spada è stronzissima si eh penso sia l'ultima questa eh potrebbe averne un altro paio però vediamo quante sono? potrebbe averne anche sette volendo però fino a sette mi ha già avuto un po' sì anche con te l'ha usata credo esatto è lo scontro della vita ragazzi ah peccato eh no il terzo colpo non lo devo fare perché non ha senso non entra adesso il falò ho rotto la fiamma ragazzi preso preso no peccato mi sa che ha finito l'estus o comunque c'è vicino oddio attenzione mio yeah come torno dentro così yes very well maestro grazie mille è stata una live stupenda magnifica è stata una live eccelsa un sequel perfetto e meraviglioso complimenti per la vittoria e allora a venerdì perché adesso avrai molto a cui pensare e questo è un altro orizzonte di eventi pieno di mistero e segreti maestro grazie mille grazie mille per aver creduto al mio ritorno qui dentro per me poi mi dirai quanti di questi 61k a spendere oh sì no ti direi di fare visto anche le invasioni un livello il resto compri un livello lo fai il resto no va bene vado all'altare del vincolo posso posso farlo così lo faccio simbolico chiudiamo lì sì poi il resto della spesa sarà l'intro della prossima volta e via ma il livello fallo anche adesso non buttare le altre anime ma investile no certo ci compriamo frecce certo certo esatto no potenziamenti no no anche potenziamenti usale per qualunque cosa che non sia livellare qualunque cosa tu desideri fatto vabbè e poi le prossime spese le facciamo le facciamo prossima volta perfetto magnifica ah ma certo ma c'è bravissimi ragazzi la prendiamo la prossima volta la chiave le chiavi perfetto perfetto top tier top tier davvero anche se mi sa che la chiave da 20k l'hai già presa non penso sai semplicemente non l'hai ancora usata dici ok mi sa che l'hai presa sì vabbè lo scopriremo la prossima volta dai dai no worries maestro maestro grazie mille grazie mille della live live splendida e al pubblico dico in chiusura mi raccomando fidatevi di più del maestro fidatevi di più del maestro fate i bravi e fidatevi di più del maestro perché gli sto dando in mano la mia blind run per la terza volta quindi se lui mi dice che ho la scelta di poterlo fare io lo faccio a maggior ragione se hai il gioco a darti quella scelta non è un segreto inarrivabile comunque però a volte abbiamo fatto anche cose che il gioco mi permetteva di fare e tu mi hai detto no adesso vai qua esatto e infatti esiste anche qui però stavolta c'è una cosa che il gioco ti permetterebbe di fare se accadono certi eventi e io ti impedirò di farla certo e capirai un giorno precisamente il perché assolutamente e sarà molto interessante quel momento ragazzi un abbraccione grosso a presto grazie mille ciao maestro alla prossima ciao chi ragazza grandiamo oh chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è ragazza grandiamo let me fammi vedere let me fammi vedere let me fammi vedere io ragazzo c'è potremmo regolare froze dai non lo radiamo da un pro da un pro da un po' secondo me dai va bene va bene va bene dai grazie mille grazie mille a presto ciao ragazzuoli grazie mille grazie mille di aver creduto in me nel mio ritorno ariamis se posso ariandel perdonatemi se posso essere sincero non ci credevo non ci credevo per niente cioè io pensavo che avrei fallito quel primo try però poi è andata è andata snowball e poggers ragazzi io delta room sarei per non farlo ma per un semplice motivo premesso che abbiamo fatto quattro ore di live e vabbè ci sta altre due tre le farei volentieri non è quello il punto il problema è che il video non è stato pubblicato se non qualche ora fa e molti di voi ancora non lo hanno neanche visto perché non è stato pubblicato in tempo purtroppo per noi non per colpa nostra non ci possiamo far nulla però non è stato pubblicato e addirittura ci sono voluti tre upload e un assistente di google cioè abbiamo contattato google per farlo pubblicare e quindi sinceramente non me la sentirei di andare in live tra dieci minuti perché dovrebbero essere dieci minuti con delta room banalmente perché purtroppo per come funziona l'algoritmo di youtube se questo video non viene visto da x persone entro tot tempo diventa un video per youtube non interessante e sinceramente con quanto ci abbiamo quanto ci abbiamo lavorato è un'altra ora di analisi non me la sento non me la sento di fare male al mio stesso video sarebbe dovuto uscire due ore prima di quanto è successo mi dispiace davvero tanto e vedremo vedremo lo recuperiamo domani magari facciamo domani ognuna retta in più anche perché ve lo annuncio ve lo annuncio prima questo ve lo dico in momento proprio di affetto non ci saranno video questa settimana se non la dan battle c'è il torneo dei sette fiori dobbiamo finire delle cose del torneo dei sette fiori abbiamo fatto in credo 14 giorni 3 video 1 di 40 minuti la anteprima di nintendo switch e metroid che doveva essere l'unico video della settimana domenica un'ora e mezzo di live e oggi un'altra ora di video di diamante perla quindi non credo che giovedì sono un po' sono un po' consumato avrei già pronto un video da farvi nel senso che già scritto da ormai un mese quello di me too però è il momento non dico di riposarsi perché non è di riposo settimana prossima settimana prossima si finalizzano le ultime cose per il torneo dei sette fiori ma per non andare in burnout si fanno le live e si lavora al sette fiori senza avere anche il peso di un altro video e di un altro montaggio che sarebbe veramente un carico inutile quindi oggi la prendiamo stasera di riposo settimana prossima tutto regolare tra nel video giovedì che non c'è ma c'è ovviamente la specialità del del torneo del sette fiori domenica a tal proposito ragazzi non ci sarà dark souls domenica ma non perderemo la doppia live quindi giovedì giorno di non video lo prenderò come scusa per fare magari una bella nottata su dark souls 3 e godiamo di più va bene ragazzi 4 ore di live a questo punto io vi ringrazio per essere stati con me e con michele mi raccomando ragazzi non gli mettete questo peso addosso a michele gli voglio bene per lui non è semplice gestire la run e fidatevi di lui non ha mai commesso errori che hanno rovinato il content non ne ho memoria di scelte che hanno rovinato il content quindi fidatevi di lui perché io mi fido cicamente di lui e vi chiedo di fare lo stesso sforzo ragazzi grazie vi mando un abbraccione e vi auguro una buona visione del video di oggi una bella analisi di un'oretta e c'è roba assurda vi dico solo vi do un'anteprima il multiverso era canonico nel 2006 il multiverso di pokemon era canonico dal 2006 non da oras dal 2006 se volete sapere il perché correte a vedervi il video ciao ragazzi bacetti grazie a tutti grazie a tutti